Buongiorno a tutti, vi ringrazio molto per la vostra presenza, perché onestamente con una giornata così bella e l'ultimo bagno, vedervi così numerosi in sede e poi ci sono tutti quelli collegati, veramente mi fa molto piacere. Ritorna oggi il sabato delle idee. In realtà nel 2023 il numero di incontri che abbiamo fatto risulta sicuramente ridotto rispetto a quello degli anni precedenti, ma questo non è dovuto perché non ci fosse motivo di incontri di dibattito politico, perché sicuramente ce ne sono e ce ne sono molti. Sicuramente non è dovuto al problema che noi organizzatori abbiamo perso energie, ma è soprattutto dovuto al fatto che noi vorremmo provare nuove formule di incontro, abbandonando quelle che sono nate nel 2009 e chiedo a voi presenti, ma anche a quelli che sono collegati, se hanno idee e suggerimenti sia per modalità di incontro, sia per tipo e argomenti di incontro, mi farebbe molto piacere. Oggi è anche il primo incontro senza Massimo Milone. La scomparsa prematura e per me molto dolorosa di Massimo rappresenta per il sabato delle idee un grosso handicap. Massimo ha rappresentato per il sabato delle idee una gran parte dal punto di vista intellettuale per tutti questi anni e quindi lo ricordo con particolare affetto e inestamente devo dire che mi manca molto e penso che così anche a molti di voi manca. L'incontro di oggi è anche un po' diverso dal solito, va verso questa transizione che vorremmo apportare con il vostro aiuto e i vostri suggerimenti. Parte dalla presentazione di un libro, un libro a mio avviso molto valido e molto bello che io ho consigliato già e a tutti quelli che l'hanno letto ha avuto un commento molto positivo. Dal libro però è un discorso che va su un discorso di politica. Il sabato delle idee, inutile ricordarlo, mi sembra ovvio e inutile, non è mai legato a nessun partito politico. Rappresenta istituzioni e uomini che sono liberi di pensare. Ma come al solito il sabato delle idee pensa che la politica sia un fattore molto importante e quindi la sede, così come abbiamo fatto la scuola di politica per due anni fa e anche l'anno scorso, vuole essere solo una motivazione di aprire e di allargare il dibattito politico. Perché noi pensiamo che oggi ognuno di noi deve tentare di invitare i giovani preparati a fare politica perché la politica è quella che poi rappresenta il nostro futuro. Io vi ringrazio tutti e prego il professore D'Alessandro di dare un saluto in nome dell'Università di Ursula Benicata. Grazie naturalmente Marco. Sono anche grato di aver ricordato Massimo Milone, una figura per tutti noi così importante, così emotivamente coinvolgente anche per l'insieme delle idee che egli aveva portato avanti, che portava avanti, che sono anche alla radice di questo nostro impegno comune come lui giustamente ricordava. Siamo qui per presentare un libro, un libro importante come è stato detto, un libro tra l'altro che interroga un tema non sempre frequentato dai nostri storici e lo interroga con un atteggiamento di grande rigore scientifico e anche in qualche modo di grande passione, cercando di ricostruire il filo rosso della storia di questo nostro paese, guardandola questa volta dal punto di vista di una sorta di presenza-assenza, quella di una destra che c'è stata ma in parte come erede di un passato, quello del fascismo e in parte come destra che cercava di costruirsi secondo un filone liberale senza tuttavia riuscire ad attingere a questo risultato. Ci sono molte domande che io vorrei fare su questo libro, anche quella per esempio relativa al processo di defascistizzazione del paese, di epurazione, perché l'ho visto molto attento a questo tema e alla mancata epurazione che mi sembra che a suo avviso sia uno dei fattori che hanno reso difficili poi un certo tipo di percorso e la nascita di un partito di destra, diciamo di tradizione europea sul modello gollista o sul modello del partito conservatore. Ma diciamo questo libro interroga il passato ma insomma poi come sempre la storia è maestra di presente, interroga il presente e vorrei leggere una breve frase di Macri nella quale lui come dire ci fa vedere quali sono i temi che sono davanti al governo, al governo di destra che si riconosce come francamente di destra che c'è in questo momento in questo paese. Dal nodo delle migrazioni selvagge alla distinzione tra welfare e sviluppo, dagli incentivi per la produttività alla disidentifazione dell'assistenzialismo, dal nodo esistenziale della natalità alla ricostruzione meritocratica delle scuole, dal controllo dell'illegalismo e dei comportamenti violenti alle garanzie del giusto processo, dalla difesa in sede europea degli interessi nazionali a un atlantismo non acritico. Questi sono i temi che noi tutti ce li vediamo davanti, sono riassunti in questa breve frase ma ce li vediamo tutti davanti e quindi il tema ci riporta dalla ricostruzione della storia che ci fa da maestra, ci porta diciamo al presente. Io vorrei poi rivolgere un ulteriore saluto se vi consentite a Paolo Magri, l'ho fatto nel ruolo di rettore dell'università, dell'università su Rossa ma lo vorrei fare anche come presidente dell'associazione ex allievi dell'istituto di studi storici, dell'istituto croce di cui ho l'onore di essere presidente e di cui Paolo Magri è stato uno degli allievi che nell'anno accademico 70-71, uno dei suoi colleghi di corso, lo voglio qui ricordare, era una persona che mi fa piacere ricordare pubblicamente perché è scomparso, era Roberto Racinaro, è stato mio collega rettore, era rettore dell'università di Salerno, un ottimo pensatore, una persona per bene che ha subito delle vicissitudini nella vita ma una persona assolutamente per bene che mi fa piacere ricordare pubblicamente. Per la nostra associazione il professor Magri terrà l'Alexio inauguralis il prossimo 6 dicembre, dico bene, in Palazzo Filomarino, siete naturalmente tutti invitati e il tema sarà quello della nazione, possiamo dirlo, sulle urme della grande lezione di Giuseppe Calasso. Grazie. Grazie Lucio e prego il magnifico Matteo Lorito di dare il suo benvenuto. Grazie. Bene, grazie. Allora intanto devo dire che sono molto compiaciuto che il Sabato delle idee riprenda poi su un tema così importante come è proprio una caratteristica di questa iniziativa. Quindi ringrazio prima di tutto Marco alla Fondazione Salvatore perché insomma sono sempre stati dei bei confronti e devo dire io personalmente ho imparato molto venendo il Sabato. Quindi sono diciamo quello che ho imparato di Sabato qui caro Lucio non l'ho imparato in nessuno. La lezione del Sabato è una cosa diciamo straordinaria quindi è la presenza di tante persone. Anch'io ricordo un grande affetto e con grandissimo dispiacere Massimo. Insomma era una persona che quando ti veniva a trovare diventava subito un confronto diciamo alto. È una persona veramente straordinaria quindi è una perdita gravissima. Io ho letto il libro diciamo di rincorsa e l'ho divorato in un attimo quindi congratulazioni all'autore perché ha fatto un prodotto che seppur è un prodotto chiaramente che va più nella scienza politologica ma però è un prodotto veramente che io ho trovato molto utile perché e non provo neanche a commentarlo perché non sono qui per quello devo dare solo i saluti diciamo però voglio voglio solo dire che è un prodotto che ci aiuta realmente a capire non che cosa è successo perché ci siamo accorti tutti di che cosa è successo. Cioè da capire come siamo arrivati diciamo oggi a questo risultato e come c'erano chiaramente i segnali già da tempo. Non do nessuna eccezione negativa risultato anzi devo dire io parlando la parte delle istituzioni con il rappresentante del governo di questo governo stiamo lavorando benissimo questo lo devo dire senza tema di smentita faremo quello che riguarda le nostre attività insomma faremo delle belle cose per Napoli quindi io posso testimoniare che non ho ieri eravamo anche Ivano ma abbiamo tante con l'uso abbiamo tante tante opportunità che si aprono perché c'è molta voglia di fare però è chiaro che è un risultato che come dire insomma in molti si chiedono ma insomma come è potuto arrivare così improvviso come una parte così importante dell'elettorato si è spostata da su come dire su su ideali su posizioni che sembravano oggi come dire relegate in un contesto diciamo di di minoranza e quindi c'è questo questo interrogativo ma sarà credo questo un tema che verrà studiato vedo Mauro Calise diciamo che è proprio come dire nel suo insomma sta vivendo il un'epoca ne ha viste tante ma un'epoca molto interessante penso per un politologo no è come è come un biotecnologo con la scoperta del dna quasi però però insomma l'unica cosa vorrei aggiungere una mia percezione personale ovviamente la mia percezione che guarda al mondo dell'università al mondo dei giovani e qualche segnale c'era quelle grandi contrapposizioni destra sinistra quelle che noi abbiamo vissuto quando andiamo all'università sono spente da da molto tempo questo ve lo posso assicurare c'è un pragmatismo nel nel giovani che oggi arrivano nel mondo universitario quasi quasi nuovo a volte anche disarmante dove ecco diventa veramente difficile se uno volesse inquadrare una studentessa o uno studente mi limitaccio e finisco subito capire se qual è il suo la sua posizione diciamo e questa è una cosa no 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 assolutamente non tocca a me e questa è una cosa diciamo che ha un significato importante perché poi i semi di quelle di questi eventi politici come dire così importanti e così sorprendenti poi partono io dico sempre all'università c'è l'università succede quello che succederà poi nella società dopo dieci anni o dopo vent'anni e noi diciamo questi segni li avevamo avevamo già visti quindi questo è il tema per cui questi contributi sono importanti per tutti sono importanti per noi credo siano molto importanti anche per per i nostri studenti quindi spero che ci sia una diffusione di questi di questo di questo libro dei libri che affronteranno magari anche da prospettive da luci diverse e questa questa situazione che al di là di tutto resta una situazione da un punto di vista dello studio e dell'accadimento molto interessante è un pezzo importante alla nostra storia politica un'altra diciamo milestone che rimarrà in un percorso di una repubblica e tutto sommato non ce lo scordiamo mai è ancora giovane che quando ci confrontiamo con altre realtà noi siamo diciamo tutto sommato una giovane repubblica quindi grazie grazie davvero e sarà sicuramente un bellissimo incontro grazie molto Matteo per la tua presenza e il tuo intervento così come ho ringraziato Lucio per la loro presenza e il loro intervento ora incomincia e io voglio ringraziare Paolo Macri che ha offerto l'opportunità di un dibattito sul suo libro Paolo non salirà sul palco ma sicuramente nel corso degli interventi potrà intervenire quando e come vuole e invito quindi il moderatore Marco De Marco che ringrazio per essere qui presente Italo Bocchino prego Italo Settifiedi Calise Mauro Calise e Sebastiano Maffettone come vedete a conferma di quello che avevo detto sono veramente illustri relatori che appresentano il top a mio avviso nell'ambiente politico e nelle idee politiche che potranno divulgare e come vedete sono espressione di tutto l'arco costituzionale che questo è quello che il sabato delle idee ha sempre voluto e cerca sempre di fare al di là della partecipazione al singolo partito ringrazio molto tutti e grazie ancora allora buongiorno a tutti ben ritrovati è utile dirvi che per me è un piacere oltre che un onore presentare questo libro e presentarlo in così buona compagnia abbiamo qui uno scienziato della politica Mauro Calise uno scienziato, uno storico della filosofia politica un filosofo di politica che è Maffettone se pensiamo Maffettone abbiamo un collega giornalista, direttore del secolo del secolo d'Italia che però è un grande esperto di politica avendo praticato la politica per tanti anni e per commentarla quasi quotidianamente nei talk show e sui giornali pochissime parole su questo libro io penso che sia un libro molto importante perché intanto è forse una delle rare volte in cui si parla di destra da posizioni che non sono di parte solitamente si parla di destra ma da posizioni o pro o contro questa è una delle rare volte in cui lo si fa appunto con una posizione diciamo da storico che analizza un problema poi perché è in relazione alla destra che spesso si è conformato anche l'identità della sinistra quindi si parla di destra ma in realtà si parla anche di tutto quello che c'è intorno e della sinistra in particolare poi perché è un libro che parla di destra alla vigilia di un voto europeo molto importante in cui la destra avrà un ruolo da protagonista l'ultimo episodio è quello della Slovacchia dove le elezioni sono state vinte diciamo da un filo filo putiniano ma Robert Fico ma il quadro diciamo di questa destra europea non è solamente quello di un di un vento impetuoso che sta arrivando perché nel quadro bisogna metterci anche le esperienze nel senso dei conservatori inglesi e lì non dobbiamo dimenticare che in sei anni abbiamo avuto cinque premier quindi c'è un quadro europeo molto articolato e questa discussione e questo libro entra in questo quadro più generale il libro su pochissime notazioni dice moltissime cose ci ricorda moltissime cose ne indico solamente due o tre la prima è che essere un paese antifascista non vuol dire essere un paese di sinistra sembra una cosa diciamo quasi diciamo scontata ma così non è in questo paese antifascista ci ricorda Macri la sinistra in quanto tale da sola non è mai non ha mai vinto le elezioni eppure diciamo ha tanta tanta attenzione un ruolo come dire determinante ci dice anche che questo è stato un paese liberale fascista monarchico ma non ha mai avuto un partito conservatore come dire stabile cioè quella è un'esperienza che qui non abbiamo che non conosciamo altrove in Europa questa esperienza si è solidificata qui non c'è mai stata e poi ci ricorda anche questo è il passaggio forse più più stimolante Macri ci ricorda anche che la lunga delegittimazione della destra durante la prima repubblica virgolette non ha giovato al paese e anzi ha determinato un grave limite alla partecipazione democratica quindi questo è il quadro sintetico moltissime altre questioni sono sollevate e poi un libro che interroga Giorgia Meloni in modo esplicito e le chiede se davvero è sua intenzione e sta lavorando alla costituzione di questo partito conservatore italiano che in Italia appunto non abbiamo avuto in più le chiede in varie forme quali sono i suoi modelli e tra i modelli implicitamente o esplicitamente dipende dalle letture nella mia lettura è stato un invito esplicito c'è anche quello a sorpresa di De Gasperi un governo che Macri definisce conservatore il suo perché fu il governo che aveva come vice ricordiamoci Enaudi e quel governo fece una politica che Macri almeno questa è la mia intenzione indica come una delle prospettive possibili per ancora oggi per un partito conservatore italiano questi alcuni temi altri invece sono stati già accennati quelle dell'epurazione per esempio della continuità del passaggio tra fascismo e antifascismo dove a una radicalità della lotta politica poi invece ha fatto da da specchio una continuità dal punto di vista politico e amministrativo dal punto di vista politico e finisco con questa notazione personale mi ha molto colpito in questi giorni quello che è successo per esempio nel caso Bottai fate attenzione a questa storia che ho letto di recente in una biografia dedicata a Bottai il papà di Bottai che era un ministro di di Mussolini ma anche uno di quelli che firmò il documento contro Mussolini per la fine del fascismo il padre di Bottai era era capo scusatemi il papà di Moro ecco il papà di Moro era capo di gabinetto di Bottai il figlio di Bottai è stato non capo di gabinetto ma uno dei grandi collaboratori di Aldo vedete come anche questo rapporto familiare continua nel tempo e Paolo Macri al di là di questo aspetto racconta questo passaggio dall'Italia fascista all'Italia antifascista rotture e continuità e come tutto questo abbia segnato la formazione dello Stato italiano repubblicano di questo ed altro parleremo appunto con Calise Bocchino e Maffettone e io direi di dare subito la parola a Maffettone perché abbiamo accennato a questo problema del conservatorismo Maffettone si prepara all'intervento ah interviene Dalvi Croft ovviamente io a tutti chiedo una valutazione sul libro delle vostre considerazioni sul libro però suggerirei anche di tenere presente questo l'anomalia italiana rispetto a un conservatorismo che in Europa c'è e in Italia ha avuto qualche tentativo ma forse non si è consolidato prego allora buongiorno a tutti è meglio in piedi il diaframma si spagna me l'ha detto un tenore il diaframma si spagna io già ho poca voce quindi perlomeno innanzitutto grazie al sabato delle idee grazie a Marco Salvatore è vero quello che hanno detto i due rettori all'inizio questa è la lezione del sabato si impara vedendo qui quando si impara a una certa età è un buon segno naturalmente conoscendo Marco da molti anni ero sicuro che quello che lui faceva avesse risultati così notevoli però sono lo stesso sorpreso e ammirato da quello che è riuscito a fare complimenti discutere a partire di un libro ha una implicazione immediata leggere il libro e come ho detto il professor Lurito io pure l'ho letto con grande interesse e con entusiasmo direi e l'ho fatto leggere perché è un libro che veramente anche i ragazzi dovrebbero leggere perché è un libro che spiega molto l'Italia il fatto che non ci sia una parte conservatore nel tempo è in un senso stravagante e preoccupante Paolo lo spiega benissimo naturalmente ringrazio anche l'autore pensavo una cosa imbarazzante mentre venivo qua io ho conosciuto Paolo del terzo liceo del primo anno dell'università sono passati quasi 60 anni ormai sono abituato alle cose che sono successi 20 anni fa qualche volta quelle di 40 ma 60 comincia a farmi paura però lo trovo sempre più in palla quindi detto questo evidentemente nel caso suo questo fatto non lo c'è e anzi se la vogliamo dire tutta c'è pure una piccola novità diciamo quando ho conosciuto Paolo diceva c'è una cosa recentissima che è successo nel 1882 invece adesso è arrivato al presente si è concesso al presente che per uno storico di razza deve essere un problema perché parlare di Milone insomma non è da Paolo però come lo fa lui non lo fa negli altri quindi questo secondo me è un punto carino perché io mi ricorderò sempre che all'inizio che ci siamo conosciuti c'è successo una cosa grave che è successo nel 1885 mentre c'è tutta la dura che diavolo era successo quindi il fatto è che ci siamo arrivati a oggi e naturalmente ringrazio anche l'editore della terza che ha pubblicato con la sua vita competenza un bellissimo libro detto tutto questo la novità è che è cambiata il mondo soprattutto è cambiata l'Italia in maniera molto evidente il problema non è soltanto che la destra vince le elezioni con imbarazzante irregolarità e anche il fatto che la destra è sdoganata prima era difficile far uscire opinioni di destra e parlarne in giro come fossero normali erano cose da marziani cose strane io sono cresciuto nella luce del libro di Bobbio che forse molti di voi avranno letto perlomeno si deve parlare destra e sinistra quella divisione così nitida pulita e banale da un lato libertà dall'altro eguaglianza non c'è più è tutto molto più complicato e quindi il libro viene particolarmente bene a spiegarci questo e a spiegarci che esiste in Italia sicuramente un paese sommerso che tendenzialmente vota centrotesto ma non è solo elettorale questa è la cosa di fondo forse elettorale potrebbe essere una moda un momento no è sempre così quello che ha detto prima Marco De Marco cioè la sinistra da solo non ha mai vinto un'elezione nazionale e questo non è una cosa da poco perché questo questo è difficile da dirlo ma sicuramente c'è un conservatorismo di base nella cultura del paese accoppiato all'idea che la politica in qualche modo ci abbia ingannato e la politica viene spesso associata con la sinistra quindi non è che tanto sia un antisinistra secondo me sono antipolitiche che associano la politica con la sinistra ma perché la politica ci ha ingannato la prima ragione la più evidente è quella tipica del populismo antipolitica il populismo sono termini affini ed è la ragione per cui esiste come è stata chiamata la casta perché la casta è importante è importante perché la casta è inamovibile questo è importante io sono un appassionato di India mi sono occupato molte volte di capire le caste beh vi assicuro è impossibile se non sei indiano capire le caste questo vi assicuro è talmente un intrigo di cose eccetera ma con la politica è molto semplice qual è lo scopo principale della democrazia come diceva Schuppeter è cambiare l'elite ogni tanto le persone insoddisfatte della politica cambiano l'elite e quelle fanno qualcosa che assomiglia più a quello che le persone elettori vorrebbero il problema è che la casta rimane se tu li giri rimangono sempre gli stessi o tendono a rimanere se gli stessi se non c'è una botta populista antipolitica eccetera perciò il primo punto in cui quello che Paolo chiama il tradimento della politica si evince è il fatto che la casta permane nonostante gli elettori non la vogliono e questo è un punto nodale perché tutte le ultime vittorie elettorali sono state basate su un attacco alla politica per lo più identificata con la sinistra però l'attacco era la politica non dicevo che la sinistra aveva torto a sostenere quello che sosteneva dicevo che la politica e dov'è che invece la sinistra sicuramente ha fallito ma non solo la sinistra secondo me è su un punto molto evidente ho detto che la democrazia serve per cambiare in maniera pacifica l'elite senza ammazzare quelli di prima ma votando contro di loro ma c'è un altro scopo della democrazia secondo me la democrazia nel tempo dall'evoluzione francese in poi ci ha dato eguaglianza politica prima limitata parziale eccetera eccetera poi più o meno tutti vanno a votare e a questa eguaglianza politica cosa dovrebbe corrispondere una certa eguaglianza economico sociale ci siamo riusciti no nonostante si vorrà di che una cosa stranissima se voi ci pensate un attimo visto che tutti votano e che quindi i voti di tutti votano quelli che stanno peggio dovrebbero avere una voce forte sulle politiche che si fanno per migliorare il loro status questo è successo più o meno con i suoi certi libri da 1945 a 1990 ma dopo si è fermato ed è questo il tradimento fondamentale non è l'unico ma il tradimento fondamentale della politica quindi la creazione di una casta più o meno inamovibile e l'idea che all'eguaglianza politica non corrispondesse a patto all'eguaglianza economica sociale e questo è un tradimento perché se c'hai eguaglianza politica se il tuo voto conta veramente tu devi cambiare un po' le cose e devi cambiarla anche nel senso di far arrivare i vantaggi del progresso scientifico e tecnologico su tutti i cittadini non su uno sì e uno no e questo sì quindi c'è un paese sommerso che sta emergendo poco alla volta e come dicevo io non solo elettoralmente Paolo è bravissimo da storico di razza qual è a descrivere nelle fasi il fascismo aveva consenso il fascismo che cosa diceva io mi ricordo io andavo a scuola alla Fiorelli alle medie e nel palazzo a fianco alla scuola c'era Basadonna non so e il suo slogan elettorale era politicanti politicasti me ne frego voto Basadonna quindi dal fascismo l'idea che la politica sia una casta di persone idonea per seguire i loro propri interessi ma non quelli del paese ci sta quindi metti uno che comanda politicamente e poi metti l'amministrazione passato a questo Paolo dice io lo trovo di grande interesse la mancata rivisitazione serie del fascismo il mancato esame di coscienza rispetto al fascismo naturalmente è il perdurare della classe dirigente del fascismo nel post fascismo hanno aumentato questo aspetto di antipolitica già presente beh poi Giannini e l'uomo qualunque qui dedicato un capitolo bellissimo la maggior parte di noi sa poco sa che c'è stato l'uomo qualunque ma sa poco il capitolo di Paolo illumina su questo e l'uomo qualunque è populismo allo stato bravo diciamo così c'è poco da fare tra l'altro di qualità intellettuale e questa è un'altra cosa che leggendo il libro si capisce e poi evento che ha trasformato quelli come me che sono cresciuti nella prima repubblica quando è arrivato Berlusconi non aveva capito più nello mondo nuovo il partito personale il tycoon che dirigeva tutto e cosa del genere io mi ricordo io sono un vecchio amico di Fratelli Confadonieri che mi venne a trovare e mi disse se era interessato a partecipare mi disse a me mi sembra una follia col solito intuito degli intellettuali non capì niente e disse mi sembra impossibile che ogni sei mesi faccia un partito che vince l'ezione sapete che mi risponsi Confadonieri quello faceva gli palazzi e gli hanno detto tutti se fai palazzi fai soldi se fai una cittadina fallisci e ha fatto Milano 2 Milano 3 poi ha comprato la televisione e gli ha detto è roba per intellettuali non capisci niente e ha fatto Mediaset poi ha preso il Milano gli ha detto solo Agnelli in Italia è una squadra di calcio che conta tu non ce la farei mai è fatta la squadra più forte del mondo quindi quando si mette in testa di fare una cosa quello ci riesce e in effetti aveva ragione però è cambiato proprio in modo di vedere e quella antipolitica c'è sempre perché in maniera diversa mette uno molto in gamba a comandare diminuendo il ruolo della discussione politica del dibattito eccetera eccetera che infatti ai tempi di Berlusconi era estremamente partigiano e non discuteva mai gli issues sul tetreno discuteva se è bello o brutto Berlusconi ma non discuteva di quello che si doveva fare poi la seconda Repubblica la Lega tutti abbiamo visto come è cresciuta Paolo ci ha scritto molto bene è interessante anche il fatto che la Lega pur avendo la stessa spinta antipolitica antiromana Roma ladrone eccetera eccetera però prendeva molti voti dalla sinistra e quindi era come al solito come è stata anche 5 Stelle un fenomeno e ora più o meno sulla stessa spinta ma con un progetto più ambizioso e più interessante c'è Meloni naturalmente proprio a Meloni c'è la tentazione di leggere il libro all'incontrario perché per chi non è uno storico uno comincia da Meloni e poi vede che è successo prima ora non voglio citare Croce che la storia è sempre contemporanea perché mi sembra esagerare però il lettore medio come me che non fa lo storico vuol sapere prima alla fine e poi è come leggere il colpevole prima di leggere il libro già sapere chi è il colpevole ma non ha una doppia data lo scetticismo sulla politica identificato come ho detto lo scetticismo evidenzia alcuni problemi ho detto prima che l'eguaglianza politica non diventa eguaglianza economica che secondo me è lo scandalo della politica ovviamente non solo in Italia ma l'altro problema che invece è molto molto italiano è la meritocrazia noi abbiamo avuto un evento collegato a un annuale festival dell'etica pubblica la scorsa settimana a Roma e Marco Pagano che conoscerete che è un grande economista ha parlato di meritocrazia ed era impressionante la sistemazione dell'Italia sullo scacchiere europeo su tutti gli altri indici chiamavamo o a metà gruppo per parlare da ciclisti o in testa al gruppo sulla meritocrazia erano regolarmente gli ultimi questo è un paese che non riesce a far valere e questa è una questione politica non è una questione soltanto intellettuale un paese che premia le relazioni personali le amicizie le parentee e non in merito è un paese che non va avanti e infatti il paese non avanza sono 30 anni come sappiamo benissimo questo paese non cresce secondo Pagano e io credo che nella sostanza abbia ragione la responsabilità di tutto questo è che la meritocrazia non c'è non funziona ma questa è una questione politica poi c'è perché c'è l'antipolitica non solo non crea più eguaglianza sostanziale ma non non premia la meritocrazia ed è ovvio che le due cose corrisponderebbero perché la meritocrazia implica ascensore sociale in qualche modo implica che le persone cambiano non solo i figli di papà e i figli di mamma che vanno avanti la meritocrazia ma sono quelli bravi che vengono da tutto beh l'altra questione che la conosciamo meglio noi degli altri è quella territoriale nord-sud ma c'è una questione nuova che è venuta fuori in ultimo tempo in cui anche la sinistra secondo me non ha fatto è la libertà di espressione la libertà di espressione era una cosa che noi abbiamo tutto sommato imparato dalla sinistra e invece adesso è patrimonio della destra e secondo me anche questo è un'involuzione della sinistra ora il problema secondo me scusate perdo un minuto solo ma il problema non è politica ricorretta il politica ricorretta è una terapia del linguaggio è abbastanza innocente se un mio amico colored come dicono gli americani nero si comporta da stronzo scusate la parola con me io devo dire uno stronzo non devo dire nero questa è politica ricorretta che è molto innocente invece gli sviluppi woke e di cancer culture sono terribilmente pericolosi perché sono repressivi sono illiberali quando la sinistra se ne fa portavoce fa male e la destra che rivendica è una cosa che è sempre stata io ho preso la sinistra però a fondo di questo c'è un problema ancora più grave che non risolveremo noi che non c'è neanche direttamente l'elite ma che secondo me vi sottopongo ma noi abbiamo sempre pensato che questa benedetta democrazia come diceva Churchill con tutti i difetti è meglio dell'altro regime ma se adesso guardiamo il mondo è l'Italia in primo la democrazia se eleziona bene l'elite sì o no è un altro problema enorme perciò la politica non piace perché sembra che la democrazia se elezioni malissimo se uno elegge Trump ora io non ce l'ho con Trump in particolare però è bizzarro che la democrazia se elezioni gente del genere come l'elite perché uno che riesce a dire 60 fezzerie al giorno che anche come record statistico tra l'altro è notevole mica faccio di dire questo e il ma a prescindere da Trump io ho insegnato tra le altre cose in Cina e ho visto qualcuno del governo cinese ma gente di livello assolutamente alto io naturalmente nessuno di loro vorrebbe vivere un regime quello ciane o credo quello cinese quello russo però sta di fatto che in posti di responsabilità trovi persone preparate serie internazionali e da noi spesso non è così e non solo in Italia in tutti i paesi democratici sta venendo qualcosa e questo genere è un fenomeno ovviamente di rigetto della politica una fortissima crisi di partecipazione politica il professor Lorito prima ha detto che i ragazzi io sono terrorizzato io insegno a scienze politiche da una cinquantina d'anni non c'è uno dei ragazzi più bravi che voglia far politico uno la ragazza o un ragazzo dice io ho questa passione voglio far politico eppure non fanno algebra non che quelli che fanno algebra non devono interessarsi politico ma quelli che fanno scienze politiche appassionarsi un minimo di politiche non gliene frega niente non vogliono non ci credono questo è il fatto ma perché? perché l'ho detto non c'è meritocrazia non c'è trasformazione delle uguaglianze politiche delle uguaglianze sociale non c'è non c'è spazio per non vedono come possono migliorare il mondo quelli che hanno 20 anni vogliono migliorare il mondo come il giusto come tutti noi volevamo fare e la politica di Osce non glielo fa fare quindi questo crea delegittimazione della politica e la destra interseca questa delegittimazione non solo è chiaro non interrompo le emozioni però ritiamo al tempo perché prima non ve lo dà avviamoci se possibile per far poi il secondo giro in buona sostanza è vero che come dice Paolo la storia della destra è tortuosa però l'idea di creare la destra conservatrice in Italia che in qualche modo era quella di Fini più esplicitamente contro la globalizzazione nel caso di Meloni ma più o meno era quella di Fini e Paolo dice nel libro che uno dei problemi di Fini non fu solo quello di essersi fatto intortare da Berlusconi ma anche quello di essere arrivato prima rispetto al suo elettorato qui Meloni non è arrivato prima e sta cercando di fare qualcosa del genere è ovvio che è difficile quindi ci sono rischi di legittimazione quando la destra non fa l'opposizione identificazione parziale tra destra e antipolitica viene meno ovviamente e quindi il rischio c'è anche di legittimazione della destra come è stato della sinistra un'ultima cosa quello che è successo negli ultimi anni nella politica europea occidentale eccetera eccetera è dal 1990 in poi è la trasformazione di un cleavage classico il conflitto potenziale permanente tra ricchi e poveri da destra e sinistra in un insieme variegato di conflitti che prevedono l'etnia la religione il territorio città campagna eccetera eccetera questo fatto di per sé interessante rende molto difficile quella trasformazione dell'eguaglianza politica nell'eguaglianza sociale ed economica di cui parlava il ministro perché? perché è un casino il conflitto perché come abbiamo visto anche da quello che è successo in Palestina si dice parlare di cose così tragiche in vocale mentre sulla ridistribuzione economica si può trattare sull'identità non si può trattare e quindi si muore e questo è un altro problema enorme speriamo che non succeda niente del genere ho detto troppe cose in un stato lungo me ne scuso però è colpa anche di Paolo che ha scritto un libro bellissimo mi viene voglia di parlare grazie no mi scuso mi scuso io perché non ho dato prima un tempo di 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 massima ma poi ho interrotto perché voglio poi avere il piacere di avere una replica se riusciamo a stare nei 15 minuti forse riusciamo a fare un secondo giro mi sono segnato qualche qualche questione per esempio credo che questa citazione della Cina per quanto riguarda la selezione della classe dirigente potrebbe essere oggetto di qualche di qualche obiezione poi vediamo se torna nel dibattito darei ora la parola a Calisa professor Calise anche Calise va al microfono benissimo e anche sì sì come preferisci come preferisci e anche qui forse una curiosità personale se poi arriviamo anche a parlare della della Meloni che tipo di leader è la Meloni secondo lo schema che Calise ci ha insegnato diciamo del leader a capo di partiti personali o di leader che fanno uso delle nuove tecniche di comunicazione è una segnalazione a Calise se si è interrogato sul fatto che la Meloni per comunicare abbia scelto di recente lo strumento del libro del libro stampato cioè è la prima la prima premier è il primo premier in Italia che pubblica un libro sulla propria di valutazione sulla propria politica in corso dopo cioè mentre è in carica e questa è la prima volta che succede di solito i leader parlano dopo e usa un sistema quello del libro che è un po' diciamo antiquato prego grazie no antiquato il sistema del libro poi presentando un libro rischia di essere diciamo così un po' nato gol per tutti noi io volevo subito dire che il libro di Paolo mi è piaciuto moltissimo e non sono d'accordo quasi con nessuna delle sue tessi questo naturalmente credo che a Paolo almeno non sorprenda e cercherò di spiegare perché sia la prima affermazione che la seconda perché naturalmente la prima non è meno importante io credo che la seconda riguardi molto il mestiere diverso che facciamo diciamo così anche se ogni tanto poi come si dice si viene conglobati però insomma facciamo due mestieri diversi e Paolo fa benissimo il mestiere dello storico questo è un libro che si può leggere anche la sera venendo sul comodino non ci si addormenta diciamo perché è scritto con una penna estremamente rapida io sono un grande ammiratore della scrittura di Paolo che lo deve avergli detto tante volte e in qualche modo in un paragrafo ci ritrovi un sacco di rovi cioè diciamo in un paragrafo e non in un capitolo proprio in un capoverso una volta si chiamavano così perché sono tante pennellate di grande rapidità e precisione che in qualche modo consentono di ripercorrere in un volume non mastodontico diciamo così una storia d'Italia alternativa perché questo è bene dirlo questa è una storia d'Italia alternativa cioè Paolo non lo fa enunciando come si dice un'apertura una sorta di manifesto eccetera ed è sicuramente una storia d'Italia alternativa molto interessante perché viene da un grande storico e da quello che avremmo potuto definire una volta si usava forse lo possiamo ancora dire un intellettuale di sinistra poi questo diciamo così io mi nuovo con Cauter anche perché io immagino che questo libro solleverà possa sollevare diciamo così obiezioni su questo terreno quindi il libro va preso in tutta come si dice la sua importanza rispetto sia alla tessitura perché è un libro che prende i capitoli giusti interessanti per esempio dedica molto spazio al periodo diciamo così della guerra della guerra di liberazione e io su questo punto però volevo appunto ricordare che poi la sorpresa che aleggia diciamo così non tanto nel libro ma in molti commenti dice mai in Italia poi non c'è stato un partito conservatore e ho capito a parte che il partito conservatore in qualche modo prima del fascismo c'era stato e come diciamo così poi si può discutere se avessimo le stigme britanniche ma quelle notoriamente ce l'abbiamo mai avuto con questo compresso della Gran Bretagna prima ce lo facciamo passare ma io visto la fine che stanno facendo ma insomma voglio dire il problema è che c'è stata in Italia i due anni di guerra civile quindi il fatto che ci sia stata una rottura al livello di chiamiamoli così dimensione ideologica dell'immaginario di tutto ciò che riguarda in generale il mondo dell'opinione pubblica ci torno poi su questo perché naturalmente è un riferimento molto importante per Paolo ed è un riferimento dove poi ci dividiamo io direi dal punto di vista disciplinare ma poi cerco di spiegarlo meglio e c'è stato due anni di guerra civile quindi da questo punto di vista l'aspetto più importante magari non è tanto quello della come dire il contrario di sdoganamento non mi viene in questo modo ma insomma dell'emarginazione culturale della destra quanto della continuità nell'apparato statale che Paolo richiama in più passaggi è che sicuramente è un aspetto molto importante aspetto importantissimo perché e qui vengo alla prima notazione come dire dal mio punto di vista dal mio punto di vista in quattro battute voglio dire la lettura della della storia repubblicana prima seconda e terza si fonda sull'organizzazione del partito stato sulla capacità di fondere partito e stato come macchine di consenso e in questo il fascismo è quello che è arrivato per primo naturalmente questo è sicuramente l'ascito che non viene come dire riconosciuto ma noi non avremmo avuto il cosiddetto intervento pubblico dell'economia che è stata la vera ossatura della forza della democrazia se non avessimo avuto l'eli e l'eli ma chi l'hanno fatto e da questo punto di vista l'aneddoto che citava prima Marco è molto gustoso molto interessante cioè non è che quella cosa lì si ferma e non è nemmeno che ci stavano solo i cattivi i collaboratori voglio dire c'era gente come Bottai ma c'era comunque un'ossatura che ha consentito a quella Italia ancora giovane e per così dire fragile io su questo credo che condivido con Paolo un amore per la lunga durata diciamo così noi siamo arrivati alla guerra il paese si teneva insieme con come si dice ecco sì sarebbe un'espressione un po' così con lo scotch ecco con lo scotch bravi il grande giornalista trova la parola giù si teneva insieme con lo scotch poi ci siamo fatti una guerra e che guerra e poi è arrivato il fascismo che è riuscito a tenerlo insieme cioè la prima esperienza storica è quella di un sistema che mette insieme un partito e un leader perché non è che ci dimentichiamo poi che Mussolini fosse un leader e tutto questo cementa il consenso ora quello che succede dopo è che viene meno il leader perché diciamo così quello era l'aspetto più visibile ma la struttura del partito stato no anzi la democrazia cristiana capisce che questo è terreno anche perché c'ha i comunisti addosso io ricordo sempre in ogni occasione possibile il congresso di Napoli del 54 c'è la geniale intuizione di Fanfani che dice qua se non ci vogliamo fare sbaragliare dobbiamo prendere il modello del partito territoriale comunista e innestarlo sulla tradizione statale fascista che è stato il grande lascito il grande lascito di quel ventennio naturalmente un lascito come Paolo ricorda più passaggi come si dice un po' sommerso ma senza quello noi il partito non avremmo tenuto insieme non avremmo fatto quella grande operazione di riorganizzazione e soprattutto per il mezzogiorno diciamo così tutto lo sviluppo del mezzogiorno è trainato da questa capacità di penetrazione della macchina statale ora è questo che collassa è questo che collassa poi il contagio e topo e qui quindi il problema del partito come dire conservatore o meno io io non voglio dire che non ci sia un filo anzi filo rosso o nero diciamo così su questa storia dell'assenza del partito conservatore si potrebbe dire è giustificato è perfino legittimo io lo ritengo influente rilevante perché dal punto di vista delle mie convinzioni 50 anni e passa diciamo così di studi del partito nel bene e nel male ma i partiti non nascono dalle idee o dalle ideologie tutt'al più e sottolineo tutt'al più da questo humus può nascere un leader perché la formazione dei partiti per chi fa il mio mestiere è un processo lungo complicato e praticamente irripetibile gli unici partiti nuovi che si sono formati in questi ultimi 20 anni sono partiti digitali nel bene e nel male e anche con i limiti che abbiamo visto perché poi quando arrivano al governo il caso delle 5 stelle è emblematico le cose si complicano molto ma perché perché la costruzione di un partito è la costruzione di un'organizzazione che deve avere una sua capacità operativa di intervento eccetera e questo il digitale in qualche modo approvato sta provando forse ancora di più siamo degli ore condendo siamo in una nuova era da questo punto di vista non sappiamo che cosa ci aspetta e certo qui si aprono orizzonti molto interessanti il primo esperimento come quello di Podemos come quello dei pirati come quello dei 5 stelle certo ha fatto un bel terremoto poi a un certo punto si è capito che quando deve andare a governare Conte ci ha provato un po' di leadership ce l'ha incollata sopra poi la cosa non ha funzionato però insomma dal mio punto di vista il problema dell'ideologia non ha assolutamente il valore e il peso che poteva avere appunto 40 50 anni fa e lo stiamo vedendo con la sinistra che praticamente va quasi potremmo dire allo sbando alla deriva insomma cioè si lottano su dibattiti alquanto chiamiamoli così fumosi sicuramente fumosi per la gente chiamiamola così normale e alla fine continuano a fare le riunioni nei circoli dove se uno c'entra voglio dire se ne scappa dopo 30 nanosecondi per quello che si vede in termini di capacità di organizzazione allora questo per dire che è affascinante la linea di interpretazione di Paolo e per certi aspetti è anche vera ma non è quella su cui si può come dire innestare oggi secondo me naturalmente una nuova fase non è quella con cui si scontrerà Giorgia Meloni perché Giorgia Meloni che cos'è intanto sempre per citare Marco è la sesta premier nel giro di 4-5 anni insomma diciamo così e i dati di Pagnoncelli io ogni tanto Nando ci ricorda nel giro di 8 abbiamo avuto 4 picchi di popolarità Renzi poi è arrivato Di Mai se lo ricordo qui poi è arrivato Salvini e poi è arrivato Meloni ora Meloni è Meloni è molto brava cioè diciamo Meloni in questo panorama è una politica di razza è una donna e soprattutto si muove in un contesto diciamo così partitico in cui la sinistra si fa prima dire che non esiste poi certo abbiamo visto succedere di tutto magari pure qua succederà qualche cosa ma il problema di Meloni non è tanto quello di come si dice aggregare consensi anche perché da questo punto di vista in realtà la galassia del centro-destra è rimasta sempre là non è che la galassia del centro-destra improvvisamente si è spostata a destra ha cambiato leader ha cambiato leader ha tenuto Berlusconi come punto di riferimento per una ventina d'anni la rega ha cercato di sbalzarlo di serio a un certo punto Saldini sembrava che sfondasse poi è arrivata la Meloni la Meloni è molto brava e ha davanti diciamo così cinque anni quindi da questo punto di vista il suo principale problema sono da questo punto di vista i fratelli Coltelli è per questo che lei si preoccupa tanto di Saldini perché dal nostro punto di vista ci deve avere un po' se questo si deve preoccupare pure di Saldini eppure di Saldini si deve preoccupare perché Saldini dalla mattina alla sera si domanda diciamo così ma perché non ci sto io là e in realtà il perché non ci sta lui là è legato a quel famoso spritz di troppo diciamo così a quello che è successo a un certo punto eccetera eccetera perché di questo stiamo parlando quando si tratta di cavalcare l'onda del consenso popolare populista mezzo conservatore mezzo ex progressista quale che sia cioè di questo elettorato frantumato ad altissimo tasso di volatilità e la Meloni è stata bravissima in questo primo anno di governo a occuparsi soprattutto del posizionamento internazionale innanzitutto perché io lo ricordo perché per me questo è stato proprio uno spartiacque e credo che per i prossimi vent'anni non lo vedremo parla tre lingue le parla pure bene cioè una cosa che dice ma quelli posizionano internazionale ma quando mai in tutti i meeting internazionali tu scambi una chiacchiera faccia a faccia se la scambi come si dice con quello che ti deve fare che poi comunque eccetera è una comunicazione ufficiale se dice hey what you think ok things are going pretty well well I know you didn't expect questo cambia completamente e quelli restano pure un po' sorpresi perché in fondo poi guarda gli stili europei non è che siano proprio allora lei è molto brava è brava perché è una politica di razza è brava perché ha un suo nucleo diciamo così ideale ideologico però poi la domanda è e che partito ha questo credo che Bocchino ci potrà dire molto di più diciamo così però l'impressione anche per quello che si comincia a vedere dei suoi interventi non sui necessariamente ma diciamo della coalizione su tutta l'infrastruttura di supporto statale ecco i bottai diciamo così ma io aggiungerei neanche non per cattiveria ma perché loro vengono proprio da un altro mondo in questo senso è colpa delle variabili che richiama Paolo prima però vengono da un altro mondo un mondo in cui quella frequentazione quel humus perché sì è vero quella è una casta però almeno a quei livelli se basta se non ci sta quella casta là non funziona perché diciamo che non è proprio così semplice far funzionare la macchina dello Stato del Parastato del Sottostato eccetera eccetera allora da questo punto di vista il banco di prova attuale è quello lì e Giorgia lo sa molto bene perché a parte guardarsi le spalle da Saldini che tutto quello che potrà scassare lo scasserà ma lei sul fronte internazionale si è mossa bene e si continuerà a muovere bene su quello interno ha difficoltà e queste difficoltà significano una cosa ed è la domanda come dire conclusiva ma come resterà in sella Giorgia perché se il problema è ci avrà ancora il consenso fra quattro anni guardate è più facile come si dice scommettere la rivoluzione del Vesuvio perché per quello che abbiamo visto fino adesso è veramente molto difficile e probabile però c'è per la prima volta una leader brava di una coalizione di centrodestra che in fondo è stata maggioritaria tranne qualche piccolo come si dice sobbazzo che ha rimesso il centrosinistra in gioco eccetera ma lei ce la può pure fare può cioè rimanere in sella ma poi la domanda è è il governo perché la vera domanda poi alla fine è come si governa come si fa funzionare la macchina dello Stato in un momento in cui potremmo cominciare la lista dei problemi dei debiti delle cose che sarà colpa del passato sarà colpa del contesto internazionale tutto quello che volete voi però questo lei lo sa benissimo lo sa benissimo Giorgetti allora la vera domanda perché poi se no scusatemi il leader come fa a durare perché l'abbiamo visto la democrazia del leader come si dice il comunicato sempre la terza in questo momento non ci sta però fondamentalmente racconta il fenomeno il fenomeno è quello poi però questi cambiano ogni due anni magari ogni tre in America ogni quattro quando poi non cambiano si arrabbiano e c'è come fa pure il colpo di Stato cioè voglio dire la democrazia del leader è estremamente volata come fai a rimanere in sé al netto pure dei fratelli coltetti cioè come fai a governare come fai a governare in un paese come l'Italia che dopo l'esperienza del partito Stato democristiano ed ereditato dal fascismo non ha ancora creato un osmosi fra classe dirigente e macchina di governo e questa è la vera sfida della Medoni e questa è una sfida veramente da far tremare i polsi perché poi lì si tratta di avere un certo tipo di cultura un certo tipo di visione un minimo di tranquillità che naturalmente la Lega non le vuole lasciare ma è un'altra sfida non è un problema di ideologia conservatrice è l'idea di rifare un partito Stato non vi spaventate perché la DC è stata questa per 40 anni che dia stabilità al sistema è come direbbe De Gaulle un vasto programma ma se non si passa per queste forche caudime magari lei rimane anche come si dice in selva ma farà molto poco per questo prese grazie grazie intanto mi viene in mente che la Meloni quasi risponde dicendo ma sto preparando una riforma presidenzialista per andare in questo sì dunque abbiamo capito che il libro è piaciuto nella forma e nella sostanza a Maffettone è piaciuto molto nella forma e nel metodo scientifico a Calise ma non tanto nel contenuto o in alcuni passaggi non è piaciuto interessante ora sapere la valutazione di Italo Bocchino sul libro cioè sull'analisi che viene fatta in questo saggio e come valuto il fatto che finalmente stiamo discutendo della destra come dire in un modo mi pare un po' diverso come si è sempre discusso nelle altre occasioni cioè non c'è una demonizzazione della destra e non c'è Macri a un certo punto dice proprio il termine destra alcune volte è proprio scomodo tu non dici scomodo dici un altro oggettivo ma proprio da proprio fastidio dava fastidio utilizzare questo questo termine oggi il clima è radicalmente cambiato io credo che dopo il libro di Macri cambierà mi auguro ulteriormente ma sentiamo le valutazioni di Italo Bocchino grazie grazie mille intanto per l'invito a questa presentazione del libro di Paolo Macri edito dalla terza sono molto contento di essere oggi con voi e anche diciamo contento di confrontarmi con due veri scienziati della politica come Naspettone e Calise mentre io diciamo volerò un po' più basso da giornalista e da persona che avendo fatto politica per 35 anni conosce un po' i meccanismi e può valutare quello che ha scritto Paolo Macri a me il libro di Paolo Macri è piaciuto moltissimo lui fa una panoramica esatta della destra italiana e per destra usiamo un termine amplissimo nel caso del libro di Macri perché va dal qualunquismo di Giannini passa la Lega passa Berlusconi cioè diciamo noi noi guardo il mio maestro Luciano Schifone che è un pezzo di storia della destra italiana diciamo per destra intendiamo una destra un pochino più ristretta di quella che racconta Macri ma il libro è un libro molto interessante perché perché come ha detto De Marco nella sua introduzione solitamente i libri sulla destra sono stati scritti o per dire quanto la sinistra demonizzava la destra e quanto la destra fosse valida oppure per demonizzare la destra questi erano diciamo i due canoni e la terza volta da quando sono entrato con i pantaloncini corti all'interno di una sezione che leggo un libro del genere mi è capitato con Giorgio Galli mi è capitato con il Polo Escluso di Piero Ignanzi mi è capitato oggi con la destra italiana di Polo Macri edito dalla terza quindi io lo ringrazio molto da uomo di destra perché per la terza volta viene fatto un servizio scientifico che è utile anche alla destra e non un libro di esaltazione di cui non abbiamo bisogno quando la destra è al 30% e ho un libro di demonizzazione di cui non abbiamo più bisogno perché io ho uno scaffale pieno di libri di demonizzazione della destra che ho letto mi sono stancato perché poi gli argomenti sono più o meno sempre gli stessi e che cosa si evince una delle cose più interessanti del libro è che dal dopoguerra ad oggi l'Italia è stata sempre di destra o non l'ha saputo o non l'ha capito o la destra non ha saputo esprimersi e la Meloni chiude il cerchio la Meloni chiude il cerchio perché riporta l'elettorato laddove è culturalmente socialmente intellettualmente e ce lo riporta con la forza della donna della donna carina della giovanità delle lingue parlate dell'origine semplice cioè con quella forza che non fa paura riesce a portare nel suo alveo naturale un elettorato di destra che invece diciamo a volte temeva di esprimersi stava nell'ADC per paura di esprimersi di dire di essere di destra la verità è che in Italia a noi sono mancati Churchill e De Gaulle perché non abbiamo avuto un Churchill o un De Gaulle che hanno permesso nonostante il fascismo di continuare a fare la destra politica abbiamo dovuto pagare il fatto che il termine destra era considerato sinonimo di fascista post fascista neofascista semifascista e lo spiega bene lo spiega bene Paolo Macri citando a un certo punto Alessandro Campi lui riporta questa frase scrive questa frase 20 anni di fascismo e 50 anni di neofascismo avevano di fatto impedito la nascita di una formazione politica una cultura politica propriamente di destra regalando una vasta opinione cattolica liberale conservatrice moderata ad altri partiti ad altre culture politiche qui con questa frase mezza sua e mezza di Alessandro Campi Macri spiega tutto quello che è successo e racconta io so che siete curiosi di sapere il tema Meloni però voglio dire rispetto l'indice del libro di Paolo racconta che cos'era il MSI il MSI non era una destra ha usato a un certo punto la parola destra perché gli conveniva elettoralmente quando aggiunse destra nazionale alla sigla Movimento Sociale Italiano ma era un partito spurio come racconta Paolo Macri era un partito che al nord aveva un elettorato e al sud un altro elettorato al nord aveva una classe dirigente come estrazione socio-economica e al sud aveva un'altra classe dirigente al sud aveva un notabilato al nord aveva un po' di alta di alta aristocrazia un po' di cieti ai marginati aveva delle classi dirigenti completamente diverse era un partito di lotta e di governo ma perché faceva la pesca delle occasioni faceva la pesca delle occasioni perché si buttava ovunque era di lotta perché faceva l'alternativa al sistema era di governo perché poi sosteneva i governi non ci dimentichiamo che ha votato l'ingresso dell'Italia della Nato votava i presidenti della Repubblica perché la DC chiedeva i voti sotto banco ufficialmente per eleggere il presidente della Repubblica faceva gli accordi con la democrazia cristiana con i monarchici con il Vaticano e poi tentò la strategia dell'inserimento che non riuscì la verità che la strategia dell'inserimento non riuscì per un errore banalissimo guardate quando succedono gli incidenti storici come gli incidenti di Sarajevo cioè il movimento sociale italiano sarebbe stato al governo dagli anni 60 interrottamente alla destra poi modificandosi cambiandosi se solo non avessero commesso l'errore di convocare un congresso a Genova anziché a Napoli se avessero convocato il congresso nel 1960 a Napoli anziché a Genova sarebbe stata la destra al governo nel 1960 e questo lo racconta bene la storia del governo Trambroni la storia del congresso di Genova nel libro Paolo Macchi e quindi dopo lì nasce l'arco costituzionale ci sono i 30 anni di ibernazione della destra e spinge Almirante alla pesca dell'occasione quindi corre a Reggio Calabria a supportare i moti contro la scelta di Catanzaro capologo di regione poi solletica la voglia di sicurezza degli italiani con la petizione per la pena di morte poi si rivolge alla borghesia per certi argomenti ai ceti popolari per altri argomenti e alla fine fa la pesca dell'occasione giustamente per tenere vivo diciamo un mondo un elettorato poi esce fuori quel gran genio di Pinuccio Datarella che un giorno ci chiama tutti quanti e dice ragazzi qui è finita cioè giocare così con questa robina 3,8 3,9 4,3 5,2 eccetera è finita e ci disse ricordatevi che in politica non conta quanti voti hai ma conta il tasso di alleabilità perché Le Pen prende il 30% da tre generazioni e non ha governato neanche il condominio in cui abita non è riuscito a governare i liberali e i repubblicani con il 2,3% e un tasso di alleabilità del 100% hanno governato a prescindere dai voti che ci avevano hanno avuto il Presidente del Consiglio il Ministro della Difesa il Ministro di questo di quell'altro quindi questo fu il grande insegnamento di Tatarella che con la sua cultura levantina diciamo riuscì a portare a portare questo a spiegare che dovevamo costruire una cosa diversa che non doveva essere né statalista né liberista ma liberale cioè la tisi quando ci fu la svolta dalla destra è che lo Stato non doveva né lasciar fare come sostengono i liberisti né fare come sostengono i statalisti che doveva continuare a fare i panettoni come quando compravamo scappare i panettoni prodotti da aziende pubbliche ma doveva far fare cioè lasciare dare la libertà al cittadino gli stimoli gli incentivi per far fare né lasciar fare né fare ma far fare quella fu il cambiamento della destra italiana però però che cosa accadde? accadde che c'è uno dei grandi interrogativi che voi conoscete meglio di me scientificamente io lo conosco più rozzamente da giornalista quindi come tutti i giornalisti un po' superficialmente il tema è un partito politico deve essere un partito specchio o un partito guida perché il tema è questo se fa il partito specchio deve essere contro ogni immigrazione deve essere contro ogni cosa perché deve ascoltare la pancia recepire la pancia e noi siamo pieni di partiti specchio il problema è che abbiamo bisogno di partiti guida cioè il partito che dice sì vabbè ce l'avete tutti quanti con gli immigrati siamo d'accordo danno fastidio siamo d'accordo rubano un pochino siamo d'accordo eccetera eccetera però visto che non fate figli visto che abbiamo bisogno diciamo di ingresso di immigrazione dovete rendervi conto che noi vi piace o non vi piace 7-800 mila all'anno li dobbiamo far entrare in Italia diventeranno cittadini fra 30 anni l'Italia come la vedete adesso non ci sarà più oggi un politico che dice così non riesce a prendere nemmeno un voto eppure solo quella è la realtà non è che c'è la seconda strada perché le altre due strade sono uno costringere con una legge tutte le persone non sterili a fare sei figli questa è una delle alternative no no voi ridete voi ridete la seconda alternativa chiudere nel giro di 50 anni l'80% degli ospedali l'80% delle università l'80% delle scuole allora ci abbiamo tre strade scegliete quale volete ma dov'è il politico illuminato che è in grado di dire questo non lo può dire perché il partito specchio ha fallito non esiste il partito specchio ha vinto il partito guida ha fallito e ha fallito non solo in Italia ha fallito in tutto il mondo io che sono un uomo di destra sono meravigliato che Trump abbia fatto il presidente degli Stati Uniti e sono meravigliato che lo rifarà perché? perché anche lì ha vinto lo stesso modello dice quello che vuole sentire la pancia dell'elettorato quindi abbiamo già perso quando è così poi c'è la fase di fini che mi riguarda più personalmente Paolo Macri definisce una meteora secondo me un po' ingenerosamente nel senso forse una meteora in senso temporale ma l'esperimento di fini è stato il più elevato esperimento di destra che sia stato fatto in Europa negli ultimi 30 anni sicuramente perché l'idea era quella di costruire e qui c'è un pezzo di di Macri c'è un pezzo di Macri che dice che spiega il problema quale è per l'esplosione Berlusconi chiedeva meno Stato libertà individuale garanzie giudiziarie un boom economico il nord dal governo fini puntava sullo Stato la sicurezza le regole le politiche sociali e il sud voleva un conservatorismo con passione e quindi perdere quando uno vuole più Stato più sicurezza più regole più politiche sociali più mezzogiorno significa che non è stata una meteora significa che diciamo non è passata non è passato quel messaggio solo per un fatto temporale perché nel frattempo c'era un fuoriclasse mondiale l'uomo più bravo al mondo nel fare marketing che sosteneva un'altra tesi allora se tu hai la tesi giusta e l'altro ce l'ha sbagliato ma l'altro è il numero uno al mondo nel marketing tu perderai sempre comunque quello è quello che è accaduto però è stato il più grande esempio cioè voglio dire un richiamo storico io lo trovo che ne so in Barry Goldwater che si presentò alle elezioni a favore dell'aborto cioè fini arrivò a favore della non riguarda il metodo ma guarda la rottura all'apertura fini arrivò ad una tesi molto laica sulla procreazione medicalmente assistita una tesi molto seria sull'immigrazione molto seria sui diritti civili e poi dopo ha vinto la pancia ed è finito adesso destra e sinistra che cosa sono la destra ha vinto e sta rinascendo la sinistra è morta i due saggi migliori di quest'anno sono stati per me di quelli che ho letto di quelli che ho letto io la destra italiana di macri e la mutazione di ricolfi uno per capire che sono destra e sinistra oggi basta che si legge questi due libri ricolfi spiega quello che ha detto prima maffettone per una parte cioè che la sinistra è morta perché col politicamente corretto ha consegnato la difesa della libertà di espressione alla destra in più non difende più i ceti deboli ma difende i ceti forti per cui a Napoli i voti delle periferie vanno ai 5 stelle a Roma vanno a Fratelli d'Italia a Milano vanno alla Rega chiuso finito non c'è più da parlare basta prendere i voti del Laurentino di Scampia e di di una periferia di una periferia milanese per capire che la sinistra ha fallito cioè ha fallito adesso boh rinascerà io vedo il mio amico Bassolino e ricordo quando la sinistra era la sinistra ci scontravamo però la sinistra la sinistra la sinistra la destra faceva la destra l'elettore sceglieva e poi c'era l'alternanza quindi rischia di saltare arriviamo alla Meloni allora che cos'è la Meloni allora la Meloni è la figlia di un mondo che lei stessa ha definito in maniera magistrale al congresso di Trieste i Fratelli d'Italia con tre parole con cinque parole noi siamo un capriccio della storia che cos'è la destra italiana la destra italiana è un capriccio della storia cioè dopo la fine del fascismo era impossibile è stato un capriccio della storia la nascita di un neofascismo che poi pian piano diventa post fascismo che poi pian piano con l'alleanza nazionale va verso il centro poi subisce una diaspora scompare elezioni del 2013 nove anni prima della vittoria della Meloni ci sono tre liste della destra italiana e ci sono l'1,9% Fratelli d'Italia 0,5% la destra Vistorace 0,4% Futuro Libertà di fine cioè tutto insieme non arriva al 3% e poi arriva al 30% dopo dieci anni perché? perché la destra è diffusa la destra è diffusa sta in ogni angolo della strada il problema è che mancava il contenitore quando piove se non c'è la bacinella non prendi acqua ti bagni e poi non c'è l'acqua piovana che ti serve per bere se c'è la bacinella prendi acqua e poi ti puoi dissetare per un lungo periodo non c'era la bacinella per prendere l'acqua poi la Meloni è stata bravissima a creare il contenitore ha rotto il pensiero unico della sinistra nell'economia della sinistra dell'economia e della stampa e l'ha rotta a volte anche con forza l'ha rotta con forza ed è riuscita laddove altri non erano riusciti la politica estera della Meloni diciamoci la verità è un successo colossale cioè la politica estera della Meloni non ha uguali né dopo guerra Berlusconi ha avuto una grande politica estera ma era una politica estera di parte che era forte perché aveva chiuso un rapporto fraterno con Bush che era il presidente degli Stati Uniti e con Putin che era il presidente della Russia quella era la sua forza la Meloni invece fa una politica europeista vera europeista non pro commissione europea ma pro Europa atlantista multilateralista che è la sua vera forza e mediterranea quindi è questa la forza riesce a incrociare tutte quelle che sono le esigenze i bisogni di una politica estera italiana ed è avvantaggiata a ragione Calisse a ragione Calisse dalle lingue che quando uno parla diciamo tre lingue come l'italiano una quarta lingua la mastica è tutta un'altra cosa e voglia dire tu le riunioni valla a fare una riunione ma poi fuori riunioni cinque minuti in ascensore tre minuti l'aperitivo e lì poi che cambiano le cose e ha la barra dritta cioè lei prende va come ieri in Mozambico in Congo si lavora sul piano Mattei in Africa si sta in Europa in maniera molto seria tant'è che l'Europa l'ha accolta benissimo perché ha visto dalla prima finanziaria che se tu rispetti i saldi non puoi sfasciare il paese quindi in politica economica adesso deve fare delle scelte secondo me molto più serie in politica economica deve fare delle scelte molto serie una scelta molto più netta bisogna capire che cosa fare perché tu o fai la statalizzazione o fai le liberalizzazioni devi trovare una linea e lì è un po' più difficile perché oggettivamente la coalizione rende più difficile trovare una linea diciamo forte netta in politica economica sul sociale sta facendo benissimo cioè sai il taglio del cuneo fiscale no? cioè abolire intanto quelle truffe del 110 quelle cose 170 miliardi buttati al vento quello intanto già ci vuole una statua per quello perché se voi pensate che noi abbiamo speso 100 miliardi cioè 4 finanziari come quello che si faranno per fare la casa più bel palazzo più bello a 4.700 immobili su 12 milioni di immobili che abbiamo in Italia cioè per fare la casa più bella al 4% degli italiani ricchi peraltro perché solo loro si sono potuti permettere di gestire la burocrazia che serviva per fare quel lavoro quindi per migliorare la vita del 4% di italiani benestanti abbiamo speso 100 miliardi cioè 4 anni di finanziaria quindi un giorno spero che il tribunale dell'AIA si occupi di questa vicenda quindi la povera Meloni adesso sta lì senza soldi per colpa degli imbrogli e delle truffe altrui a fare una politica economica difficile però che fa col taglio del cuneo fiscale aiuta i più deboli quel bonus famiglia aiuta le famiglie numerose con altre cose che destra viene fuori perché non dobbiamo fare la propaganda da Meloni che destra viene fuori viene la destra che ha raccontato Macri è una destra nazionale europea occidentale è una destra che non si piega a una logica liberale non è una destra liberale è una destra conservatrice è una destra conservatrice di cui possiamo ritrovare appunto in Barry Goldwater Roger Scraton le origini in Prezzolini le origini di quel pensiero dove la Meloni può costruire questo partito ce la farà? non so non ce l'abbiamo la risposta e concludo se ce la farà però certo lo vuole fare ha il consenso per farlo può fare il partito conservatore che diventa il partito stato che con degli alleati governa può governare a lungo deve fare delle scelte forti secondo me sulla scuola e sulla sanità sulla scuola non c'è niente da fare lo dico dinanzi al mio rettore per scuola intendo tutta l'istruzione c'è una sola strada ripristinare il merito il fatto che tutti debbano essere promossi è il fallimento di una nazione è fallita la nazione è finita perché se se tu non sai che puoi fallire hai già fallito nel momento in cui non sai che puoi fallire hai già fallito e questo quindi lì va fatta una scelta secondo me più di destra ancora sulla sanità va fatta una scelta secondo me molto più forte che poi la grande scelta sulla sanità la prima è quella di togliere le liste d'attesa che sono la vergogna di un paese civile la vera vergogna di un paese civile sono liste d'attesa che sono quelle che fanno la differenza tra il ricco che si rivolge al privato e il povero che deve morire e questo è inaccettabile questa è la vera missione che la destra si deve dare anche perché la sinistra non è più in grado di fare queste battaglie io penso quindi concludendo che la Meloni sappia che cosa fare e come farlo credo che possa costruire anzi che possa scrivere il successivo capitolo del libro di Paolo su come nacque il partito conservatore in Italia e leggo queste sei righe dell'ultima pagina del libro di Paolo per far capire quanto condivido quello che lui ha scritto lui scrive Paolo ma anche la destra dovrà prendere atto che la conquista delle praterie dei moderati dei conservatori degli indifferenti degli arrabbiati non passa attraverso lambiccate mediazioni politiche né attraverso mimetismi ideologici ma formulando senza remore senza ambiguità senza timidezza i propri valori programmi e prospettive pane al pane esattamente quello che sta facendo Giorgio Amelotti bene allora il programma il programma è questo vorrei però guardarmi confrontarmi con Marco Salvatore per i tempi darvi la possibilità di una di una replica velocissima però poi bisogna sentire esatto bisogna sentire Macri e raccogliere qualche qualche domanda potremmo far fare prima delle domande se ci sono o invece se c'è l'urgenza di una replica passiamo subito alla replica allora se ci sono dimmi Paolo subito ok allora sono d'accordo se puoi andare al microfono lì bisogna sempre rompere il ghiaccio qualcuno nel pubblico per romper il ghiaccio che lo faccio di spalle perché non vai al microfono visto che l'hanno fatto tutti così solo che il microfono induce ad allungarsi però ti faccio un segno io non sono abituato a queste cose no ma proprio veramente due parole insomma in modo da assolutamente anche le cose le mie perplessità in questo calderone ovviamente grazie a tutti sì grazie a tutti prego il professor Gallupi è piuttosto duro sì allora rapidamente insomma ecco mi colpiva l'ultima cosa che diceva Italo Bocchino questa non è una destra è una destra conservatrice deve essere una destra non è una destra liberale vabbè si apre un discorso Giorgia Meloni Giorgia Meloni è una nei suoi libri citati da Marco De Marco insomma invece sottolinea questo e devo dire appunto sbagliando o vedendo giusto anch'io sottolineo questo nel senso che mi sembra appunto che nella traiettoria italiana manchi una quello che Maragodi attendeva sempre un partito conservatore di massa liberale di massa che non c'è mai stato però ci sono delle fasi su cui appunto si sorvola troppo facilmente che probabilmente oggi non possono essere riproposte sì che semplicite ma che sono molto importanti e che in qualche modo sono un paradigma anche delle ipotesi diciamo avvenire di Giorgia Meloni io da questo punto di vista lo diceva Gian Marco Già De Marco nell'introduzione io dedico uno che legge un libro sulla destra italiana dice vabbè ma adesso che c'entra che c'entra De Gasperi io dedico diverse pagine a quello che succede tra 1947 e 1953 quando si crea in Italia un esperimento di governo conservatore De Gasperi lo dice in tutte le salse voglio un governo conservatore lo vuole e lo fa e ci mette dei liberali e anche certo e anche dei liberisti ci mette Inaudi ci mette Del Vecchio ci mette Pella ci mette Merzagora insomma ci mette personaggi che sono tra l'altro pesanti insomma non parliamo di figure minori parliamo di figure molto pesanti questo tipo di qua si viene al nodo Calise questo tipo di progetto attenzione che è un progetto conservatore quindi capace di come dire fare delle politiche di rigore per esempio in questo momento sono molto importanti Paolo Troscani che si interessa e che sa ben più di me di storia economica potrebbe confermare fare delle politiche di rigore questo è il questo governo De Gasperi e Inaudi diciamo così 1947 1953 e nello stesso tempo fare riforme non ci dimentichiamo che questo è un governo che fa delle grosse riforme questo è il governo che fa che tira su la cassa per il mezzogiorno questo è il governo che fa la riforma agraria insomma quindi voglio dire attenzione appunto chi mai spero nessuno ma chi mai desse diciamo alla parola conservatore un significato come dire di grettezza di chiusura insomma sbaglierebbe questa questa non dice la storia europea ma questo non dice perfino la storia italiana ovviamente appunto questo esperimento viene chiuso da una resipiscenza dei partiti come sappiamo che nel 1953 dicono calma ragazzi insomma il il l'autosufficienza diciamo così di un governo il governare di un governo deve sempre passare da noi e qui c'è il problema chiaramente dei partiti una una seconda cosa che volevo dire sì insomma quello che che sottolina il libro e che è stato anche sottolineato qui nei commenti è che c'è in Italia un forte deficit di rappresentanza Bocchino la butta come dire come la dice in modo radicale dice l'Italia è stata sempre un paese di destra adesso questo mi sembra una un'affermazione un po' temeraria certamente c'è in Italia un deficit di rappresentanza molto grosso perché in Italia per 50 anni mica uno per mezzo secolo c'è un pezzo di paese che o non ha rappresentanza politica o come diceva Montanelli vota turandosi il naso quindi finisce diciamo in un campo politico che poi non gli appartiene e questo secondo me è il discorso della 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 casta che faceva Sebbi è importante il discorso del partito che faceva Mauro è importante ma questo secondo me è la la grossa radice poi in fondo dell'antipolitica di un'antipolitica che a sua volta ha origini vecchie avete citato il fascismo e figuriamoci se se il fascismo non disprezzava il il politichese diciamo così eh o non riduceva politichese la politica però insomma dico questa questa la presenza insomma di una destra diffusa come dice un nostro collega storico molto bravo che è Roberto Pertici che non trova rappresentanza questo secondo me è la vera radice insomma di un filo di un filo rosso di antipolitica di diffidenza nei confronti della politica anche di diffidenza nei confronti della democrazia se parliamo dell'immediato dopo guerra due forse era il secondo punto non ho perso il conto terzo punto questa che forse invece va richiamato che non è stato richiamato fino in fondo attenzione perché questo tipo questa destra composita come dice Bocchino certo c'è dentro io ci metto dentro di tutto tutto ciò che non è sinistra diciamo così questa destra crea la seconda repubblica no proprio da vita da vita alla seconda repubblica e quindi porta nella seconda repubblica una serie di caratteristiche che sono caratteristiche storiche ed è un campo si è detto elettorato volatile certamente prima sono salviniani poi sono berlusconiani eccetera eccetera però attenzione insomma è un campo chiuso è un campo chiuso cioè i trasferimenti da questo campo di destra alla sinistra praticamente non esistono i trasferimenti della sinistra verso la destra esistono come nel 1994 come fa il centro-destra ad avere improvvisamente 16 milioni di voti 16 milioni e mezzo di voti perché un pezzo di centro democristiano di sinistra socialista eccetera è confluito nel centro-destra nel centro-destra il fenomeno di Grillo come si spiega insomma come si spiega si spiega certamente anche perché un pezzo di sinistra confluisce allegramente nei recinti di Grillo quando i recinti di Grillo sono dei recinti tutt'altro che di sinistra o quantomeno destra-sinistra quindi voglio dire anche questo è un elemento da tenere in grosso conto l'ultima cosa è il richiamo ad un articolo di Ernesto Caldi della Loggia che probabilmente conosciamo tutti Ernesto Caldi della Loggia che insomma è una persona tranquilla non è uno appunto che usa in genere l'accetta dice una cosa molto pesante anche in questo articolo che hai capito qua l'articolo che mi sto riferendo e cioè dice oggi è un articolo contro il progressismo contro il progressismo dice vabbè oggi insomma più che la sinistra c'è il campo progressista ed è un articolo molto duro nei confronti del campo progressista dice che il campo progressista sta come dire sta azzerando la natura e sta azzerando la storia e quindi insomma è un grosso pericolo è il grosso pericolo ma beh si può essere d'accordo si può non essere d'accordo ma la cosa che mi interessa sottolineare l'ho fatta troppo lungo ma ho finito è che l'appendice diciamo a questo discorso di Ernesto Caldi della Loggia è oggi come dire i conservatori cioè quelli che vanno contro i progressisti hanno una chance storica i conservatori in genere erano quelli che non volevano che si muovesse nulla diciamo i retrivi i reazionari gli immobilisti eccetera oggi il conservatorismo è un modo per salvare una serie di valori e elementi culturali dell'Occidente democratico e liberale questa sarà la strada di Giorgio Meloni non lo so non è il mio mestiere dire se lo sarà o non lo sarà grazie bene tra l'altro il partito europeo della Meloni è conservatori riformisti conservatori riformisti che potrebbero anche essere conservatori e progressisti per certi versi perché la polemica che la Meloni fa non è mai contro il riformismo naturalmente perché ci si ispira non è neanche contro il progressismo ma è contro la globalizzazione perché è cosa un po' diversa ma questo complica ancora di più tutta la nostra riflessione intanto io ringrazio Paolo perché ha rotto una liturgia per cui l'autore interviene alla fine e il pubblico se ne va nessuno più senta eccetera eccetera invece io lo farei addirittura intervenire all'inizio a presentare le proprie tesi prima o poi ci riuscirò o ci riusciremo ma insomma alla liturgia in qualche modo bisogna dare essere rispettosi nei confronti della liturgia allora sì sì è vero è vero ma perché molti interventi tendono a parlare del libro dovrebbero parlare del libro insomma il rischio c'è è un metodo avete pronte le domande oppure sicuramente qualcuno vuole fare le domande ecco benissimo ci sono sì buongiorno io sono Giuseppe La Terza sono l'editore felice di questo libro e volevo ringraziare prima di tutto no no non c'è l'applauso a Paolo volevo ringraziare prima di tutto Marco Salvatore per questa iniziativa così importante e poi volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute che dimostrano che il libro è utile nel senso è un libro che apre una discussione noi la continueremo in varie città il 23 ottobre la faremo a Roma tra l'altro ci sarà anche Gianfranco Fini che appunto è un protagonista volevo solo dire una cosa mi sembra di tipo fattuale e cioè Bocchino ha detto una cosa che si sente dire spesso in televisione l'Italia è un paese di destra di solito la affermano le persone di destra quelle di sinistra dicono sì certo ora Nando Pagnoncelli che è stato citato da Maffettone che è un sondaggista fa da cinque anni un'autovalutazione politica cioè chiede ti senti destra o di sinistra allora la prima domanda che vi faccio è ognuno di noi può avere un'idea su cos'è la destra e la sinistra per carità abbiamo sentito che ci sono vari modi di interpretare la destra però forse bisognerebbe un pochino stare a quello che gli italiani dicono o no o diciamo quelli che dicono gli italiani non conta conta le elezioni ma non conta il sondaggio allora è molto interessante Pagnoncelli mi hanno dato ieri l'ultimo sondaggio quello di settembre che rispecchia esattamente gli ultimi cinque anni con piccolissime variazioni questo è quello che gli italiani hanno risposto alla domanda degli ultimi cinque anni e sapete cosa rispondono in questo sondaggio il 27% dice siamo di destra il 27% esattamente la stessa percentuale dice siamo di sinistra l'8% dice sono di centro il 5% dice non so il 33% un dato costante gli ultimi dice non mi riconosco in questa distinzione non mi riconosco non è che dice non so io ho chiesto a Pagnoncelli come si comportano dice guarda l'80% sono persone che si astengono il 10% sono 5 stelle l'altro 10% è disperso questo 33% sugli elettori potenziali perché non è che un sondaggio dice si è andata a votare no che sono 50 milioni vuol dire 20 milioni di persone allora noi possiamo anche dire chi se ne fotte di cosa pensano loro e come si autocollocano io decido che quel 33% sono di destra per carità ognuno è libero di decidere e quindi decidere che questo è un paese di destra però francamente forse qualche volta i fatti i dati la autopercezione dovrebbe contare è molto divertente la storia del sondaggio di Pagnoncelli ma io che sono meno scienziato di Pagnoncelli diciamo vengo dalla dalla strada napoletana faccio un altro ragionamento quando ha vinto la sinistra in Italia elettoralmente quando ha vinto ha vinto diciamo nel mondo della cultura ha vinto nel mondo della scuola ha vinto nel mondo dell'università ha vinto nel mondo del giornalismo ha vinto nel mondo della letteratura ha vinto nel mondo dell'editoria ha vinto quasi ovunque ma non ha vinto mai elettoralmente cioè per fare uno di sinistra presidente del consiglio hanno dovuto fare un ribaltone per vincere due volte le elezioni hanno dovuto prendere un democristiano tecnico cioè uno esterno alla politica della democrazia cristiana e hanno dovuto fare una lista tecnocratica di appoggio vinsero Coddini non ce lo dimentichiamo col governatore della banca d'Italia quindi la sinistra non ha mai vinto le elezioni e quando le ha vinte anche la destra da sola se intendiamo sinistra e destra solo il Messia e i suoi figli il PC e i suoi figli nessuno stiamo parlando di minoranze intendo come destra centrodestra e sinistra centrosinistra ovviamente è evidente tutto ciò che è possibile mettere assieme in coalizione le uniche due volte che ha vinto peraltro la sinistra con un uomo di centro della tecnocrazia delle partecipazioni statali ha vinto perché la destra aveva avuto una rottura interna quindi io il mio è un dato empirico perché il mio è un dato no no ma l'Italia è un paese di destra è una roba è una roba più profonda non è un fatto di calcolo elettorale cioè è un fatto di l'Italia è un paese tradizionalista l'Italia è un paese cattolico l'Italia è un paese dove ancora c'è un concetto di famiglia che altrove non c'è ci sono una serie di canoni che fanno sì che l'Italia è tendenzialmente un paese di destra dove la sinistra non vince e tant'è che la sinistra per vincere ha dovuto prendere una volta Prodi una volta Draghi una volta Tizzo una volta Caio quindi questa è la considerazione io non è che penso che la destra da sola sia maggioritaria nel paese penso che l'Italia sia un paese tendenzialmente moderato di centro-destra e quindi la costruzione di un partito conservatore di massa liberale dei diritti ma non liberista in economia possa prendere questo consenso e metterlo all'interno di un contenitore molto più ampio che finora non c'è stato io ricordo solo un Ricolfi che quando ancora non si occupava di merito ma faceva pure lui dei sondaggi eccetera diceva che l'Italia sostanzialmente per decenni è sempre stata bipolare centro-destra e centro-sinistra quasi allo stesso allo stesso punto questo diciamo ah allora bipolare sì bipolare la sinistra allora rompa ancora lo schema e sarebbe interessante coinvolgere qualcuno del pubblico io vi do vedo Antonio Bassolino non so se posso chiedere a Antonio una valutazione su questo libro se non ha letto il libro no no questo può essere un alibi se non vuole intervenire ci vuoi dare una tua valutazione sulle cose dette sulla crisi della sinistra su questa Italia divisa a metà no va bene il tentativo è stato fatto bene allora c'è prima una domanda lì e poi schifone prego ecco ci ho pensato un attimo prima di intervenire in questa riunione nella quale veramente hanno parlato gli esperti in materia come si suol dire mi sono permesso di chiedere di parlare solamente in base alla mia età che è piuttosto elevata e per quello che ho fatto dalla mia vita sono stato un imprenditore a 360 gradi lavorando moltissimo in Italia e all'estero questa è tutta la situazione allora io mi sono chiesto al di là ripeto della cultura ci dica il nome anche il nome Capaldo mi sono chiesto che cosa serve al paese che cosa ha fatto la Germania come si è risolta la situazione in Germania dopo la guerra che era distrutta completamente e la risposta che mi chiedo io ripeto non un uomo di grande cultura come voi è quella di essere capace un paese di produrre innanzitutto per poter dare il benessere ai cittadini e essenzialmente per poter passare dal benessere alla cultura e alla moralità perché tutto parte da una situazione di vivere la prima cosa è rispondere e dice come faccio a vivere quindi la produzione e la capacità di produrre credo che sia al primo posto al di là di quello che è destra sinistra centro ma è chiaro che è la destra che parla di produzione prima e poi di come si può utilizzare la produzione per una serie enorme di cose fra le quali tutto quello che avete detto fino ad ora per me questo significa quindi la prima cosa è produrre perché dalla produzione si arriva al benessere di tutti i cittadini nelle loro specifiche forme se non si produce non si può fare questo è il discorso sarà tutta una questione di 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 fantasia di cose molto importanti di di cose diciamo di di pensiero ma come vivere come si fa come una famiglia se non ci sta il capo famiglia che produce e fa vivere la famiglia tutti i resti non ci sta perché questo significa destra non altro questo ringrazio grazie a lei allora schifone allora prima schifone poi continuiamo io altrimenti non ho letto ancora il libro di macrima non solo lo leggerò ma poi spero anche di poterlo commentare e discutere nel circolo culturale della contea possibilmente nei prossimi tempi quindi mi basso sugli interventi che ci sono stati tra l'altro di altissimo livello e il mio il mio primo la mia prima riflessione è proprio sul fatto che finalmente si parla della destra in maniera discorsiva in maniera di confronto senza criminalizzazione o senza demonizzazione questo è stato anche sollevato è stato sottolineato precedentemente ecco io un elemento metterei in evidenza che pure è serpeggiato nei vari interventi è che questa la destra italiana è una destra particolare rispetto alla destra del mondo deve essere internazionale che la destra italiana ha un sostrato di socialità che nasce anche dalla sua storia ecco infatti non a caso il primo il primo organismo si chiama movimento sociale italiano nasce lo diceva anche Italo nasce con una con una connotazione non di destra nasce con una connotazione sociale che poi acquisisce il concetto e la posizione di destra per la contrapposizione alla sinistra perché comunque il comunista era il nemico fondamentale per cui anche nel Parlamento si si pone a destra rispetto alla sinistra questo concetto poi si sposa con il concetto dice della tradizione della storia della nazione che ha una sua diciamo una sua connotazione anche rispetto ai valori quindi è un movimento che ha un riferimento di destra rispetto ai valori etici ai valori spirituali ai valori diciamo di comportamentali ed ha invece una valenza sociale rispetto al contenuto del rapporto con con l'economia e con il rapporto dello sviluppo della società questa caratteristica è una caratteristica che è tipica italiana destra sociale ma questa destra sociale nasce da un altro elemento che ho sentito poco evidenziare il concetto di nazione quello è un elemento fondamentale che fa che fa sì che si possa ricollegare a De Gasperi De Gasperi è uno che ha il concetto della nazione molto radicato io ricordo il discorso che lui fa davanti agli alleati quando parla dell'Italia rivendicando il concetto della nazione italiana ed è quello ed è la caratteristica per cui Marco ricorda che a livello europeo la nostra battaglia è contro la globalizzazione non è contro l'Europa noi siamo certamente a favore dell'Unione Europea lo diceva anche Italo siamo contrari alla globalizzazione e la globalizzazione può essere affrontata soltanto in chiave nazionale certamente non può essere affrontata in chiave internazionale questi sono i concetti di fondo questo viene anche evidenziato oggi da vari intellettuali di sinistra poi anche Ricolfi che appunto dice voi forse non avete capito perché questa destra vi spiazza perché è una destra sociale è una destra che affronta i temi della società i temi dei citi più deboli Italo prima ricordava il cuneo fiscale gli interventi che ci sono stati è una destra che affronta anche le questioni sociali non soltanto le questioni dei citi più abbi ecco da questo punto di vista il libro di matrice certamente fa una storia interessantissima sulla destra e noi lo apprezziamo certamente lo leggiamo e lo commenteremo bene quindi un complimento esplicito vediamo il professor riusciamo mi pare anche io non ho letto ancora il libro l'ho comprato stamattina e quindi anche io mi baso sugli interventi che abbiamo ascoltato non ho mai sentito parlare però della Costituzione allora la domanda che io rivolgo a tutti i relatori se e in che misura attualmente la Costituzione costituisce la cartina di tornasole per valutare gli indirizzi politici dei vari governi a Bocchino poi in particolare chiederei che cosa pensa della Costituzione e come mai la destra non invoca mai la Costituzione l'ha fatto soltanto insistentemente per difendere il generale Vannacci nel senso che ha molto molto insistito sull'articolo 21 della Costituzione perché era l'unica norma che poteva essere al momento in Modano comunque io della Costituzione non ho sentito parlare pure il periodo che va dal 46 47 al 50 è il periodo costituzionale di questo Paese la Costituzione non è una cosa da nulla è frutto di un oltre che vabbè della resistenza della ma è frutto anche di pensieri profondi quindi la Costituzione determina un po' la differenza d'essere certo vorrei capire come la Costituzione si pone in questo quadro va bene è una domanda come dire bollente ma lascerei ancora il tempo per qualche altra qualche altro consiglio e poi rispondiamo ecco lì lì tra destra indubbiamente oggi è stata una buona occasione per ascoltare tante voci il libro non l'ho letto il libro di Magritte lo leggerò a me manca una risposta manca un pezzo qual è il partito degli astenzionisti qual è il partito degli astenzionisti c'è sinistra destra centro mezzo destra ma ci rendiamo conto che il partito più grande è quello degli astenzionisti e che significa questo cosa significa questa è la domanda c'è qualcun altro sì eccola sono Luigi Avarone no la domanda è velocissima quanto pesa la credibilità del leader in diciamo in questo contesto sociale progressista eccetera eccetera di progresso non progresso noi abbiamo visto le quattro punte che abbiamo ascoltato Salvini Meloni Salvini Meloni Salvini Renzi e esatto l'ultimo e appunto Conte Cinque Stelle eccetera tutto è legato ad un'aspettativa di credibilità 33% che ricordava che ricordava la terza allora io credo che tutto no no poi vabbè ricordava la terza da Pagno Fonte Pagnonicelli Fonte Pagnonicelli allora io credo che tutto si giochi su questo termine le persone hanno bisogno non tanto certamente di idee non tanto di ideologie ma soprattutto di affidabilità e credibilità perché questo si rileva anche nei rapporti personali che oggi vengono in qualche modo drogati anche da internet dai social eccetera eccetera quindi il tema della credibilità a mio giudizio è l'elemento centrale che ha fatto fallire le precedenti punte e vediamo il futuro che cosa ci aspetta grazie ancora qualcuno eccolo là buongiorno Giovanni Mazzocchi una domanda veloce per il professor Maffettone rispetto all'analisi politica che è stata fatta stamattina io vorrei un punto quello che non è emerso la tecnologia come impatterà per la futura tenuta dei vari governi e della costruzione delle varie leadership allora se non ci sono domande partirei subito partirei con Maffettone all'ultima però aggiungerei anche questo a Maffettone che ha scritto un libro fondamentale sulla politica Bocchino prima ha detto un partito conservatore non un partito liberale ovviamente non escludeva l'orizzonte liberale ma tra i due orizzonti definiva quello ma un conservatore che esclude come prioritario il confine e l'orizzonte liberale che cos'è non è un reazionario ma Bocchino credo che abbia detto liberale sui diritti ma non liberista in economia e che lascia uno spazio quattro rapidissimi flash questa volta però rapidissimo infatti sto seduto sì secondo me una cosa molto importante l'ha detta Calise c'è una mobilità dell'elettorato molto forte il successo di Meloni dipende se riesce a stabilizzare con un partito qualcosa che ci assomiglia questa mobilità una forza che intersega l'amministrazione pubblica il governo eccetera eccetera questo è un punto nodale che nel libro c'è in nuce e che Calise ha sviluppato secondo me è un punto interessante questo si collega a una cosa altrettanto interessante che ha detto Bacchino secondo me l'idea della distinzione tra un partito specchio e un partito guida secondo me questo può riuscire solo se da specchio diventi guida almeno in parte quello che dice Calise ovviamente non è facile ovviamente è molto normativo come diciamo noi cioè è progettualizzante ma non non si vede nella realtà però il crotus si exalta secondo me quindi questo è il problema quello che diceva Paolo invece il articolo di Galli dell'Oggi ho scritto un articolo in Revit uno dei tanti che mi sono uscito e lì lui ha un'idea stranissima di progressismo qui devo che ci siano parecchi progressisti ma chi è progressista? secondo Cali dell'Oggi il progressista è un apologente della tecnica secondo me invece il progressista è un apologente della distribuzione della redistribuzione dei vantaggi dell'innovazione sul popolo questo quindi è quasi tutti i progressisti penso si vedano come dico io non lo so però insomma ed è molto tangente al tema di oggi poi sulla cosa che dicevo sempre la terza quindi progressista di sinistra come diceva Dalla sì io per progressista non intendo quello che è l'apologente della tecnica francamente e così cerco di rispondere tra l'altro anche la mia visione della politica in generale e della politica progressista in particolare non è tecnologia prima e poi il resto ma la tecnologia ci dà dei vantaggi e ci dà anche dei rischi bisogna affrontare i rischi e redistribuire i vantaggi questo secondo me è il compito della politica in generale non è un solo stato molto specifico però credo che sia abbastanza chiaro una cosa che diceva Giuseppe leggiamo liberi e i libri intelligenti sono stati scritti al 90% perlomeno da persone libera alle progressiste e socialisti e questo è un problema quel partito specchio che può risolvere il problema di Calizia si fa se si ha una cultura all'altezza di questo e fino adesso non c'è i vari interventi dei ministri qua e là del governo questo ma credito questo ma credito è libero un po' lo contesta quindi secondo me infine un grande elogio ancora a Paolo che però contesta questa testa cioè dice che c'è c'è stata una grossa produzione culturale sia negli anni 50 quelli che abbiamo letto noi Bobbio Colletti per dire del mio mestiere mio che ne sono Vecca che era un mio caro amico e cose del genere stavano tutti da un lato magari però bisogna fare quella roba lì ecco appunto la gente che ha girato per il mondo con nome Italia nella cultura se vediamo era quasi tutto e questo secondo me al di là del 50-50 di cui parlava Giuseppe è un fatto che c'è da lì un 90 e un 10 e se vuoi fare il partito guida devi recuperare un po' da quel punto di vista infine l'elogio a Paolo è quello che avete fatto tutti in sostanza è finalmente un libro serio che va letto che fa capire e non è partigiano e non è una cosa da propria Alisa allora sì ancora non abbiamo affrontato il tema che tu dicevi che avremmo potuto mettere anche perché si è capito io nella costruzione del partito conservatore non ci credo non credo neanche che la Meloni ci investerà più che tanto perché la Meloni è molto smart e sa la fine che ha fatto Berlusconi su quel su quel terreno come si dice chi se la dimentica a proposito delle battute famose che fa i micacci e quindi questa questa costruzione una volta chiarito che il i dati di Pagnoncelli citati da da Pevera Terza quelli fotografano la situazione elettorale poi possiamo fare un dibattito per i prossimi 40 anni e il libro di Paolo offre dei materiali per decidere se poi l'ideologia del partito l'ideologia del paese sia anche che misura fino a che punto eccetera di destra i dati sono questi qua spalla a spalla con un pezzo di centro che si butta da una parte e dall'altra e con un enorme partito degli astensionisti sul quale non sappiamo fare previsioni quindi i dati sono questi qua naturalmente è chiaro che se c'è un sistema elettorale dove il campo largo non esiste e invece un altro dove si riesce a tenere assieme il centro-destra non c'è partita però la domanda è se riesce a tenere insieme il centro-destra peraltro ci terrei a ricordare Paolo che lo spillover da questo campo molto più coreacido che quello della sinistra c'è stato i 5 stelle hanno preso quando hanno vinto le elezioni un terzo questi sono dati duri quindi poi possiamo un terzo un terzo l'ha presi dal centro-destra un terzo dal centro-sinistra e un terzo dal loro bacino originario quindi c'è stata una vera e propria come dire un terremoto nei due campi poi quando si è trattato di andare a incassare il terremoto quel partito là non ce l'ha fatta però attenzione un partito digitale venuto dal niente ha come si dice scombinato i due campi storici quindi da questo punto di vista questa storia come dire la lunga durata il paese era qui là eccetera noi siamo in un a nuova era geologica cioè quella domanda su quanto incide la tecnologia ma guardate noi non abbiamo idea di che cosa sarà questo mondo fra cinque anni perché rispetto a quello che eravamo dieci anni fa è già cambiato tutto quindi attenzione a non prendere come si dice troppo sul serio comportamenti e come si dice lunga durata che è poi una durata di 30-40 anni perché il digitale sta cambiando tutto lo ha fatto in America con delle elezioni che si sono vinte prima Obama e poi Trump sull'uso dei social è successo in Brasile con il personaggio che la volta successiva se l'è perso Bolsonaro continua ad essere la spina dorsale di Modi cioè sono sistemi politici in cui il consenso si regge sul controllo preponderante dei nuovi media allora questo solo per dire che questa sarà una bella sfida diciamo così per il futuro e comunque in questo quadro io credo che la Meloni sia molto consapevole della fragilità diciamo così di questo elettorato perché non è che ci vuole una smart come lei per guardare i picchi che vanno sopra e sotto o i dati di Lando Pagnonceli l'operazione che sta cercando di fare e vengo alla domanda della quale nessuno ha parlato in questa stanza perché sia di destra il conservatore eccetera è se riesce a fare la riforma istituzionale se riesce a bloccare in qualche modo la presidenza del Consiglio perché questa è l'unica operazione sulla quale lei può sperare di come dire tenersi in mano alle prossime elezioni di questo paese perché certo non è da escludere che la Lega faccia l'ennesimo suicidio ma sembra abbastanza improbabile ma poi dopo che cosa succede lei questo lo sa benissimo quando io dico ha bisogno di costruirsi uno Stato non un partito conservatore per il quale ci metterà tutte le etichette ma oggi come oggi i partiti la capacità di mettere radici nuove sul territorio strutture eccetera ma stiamo parlando proprio di fenomeni ormai preistorici preistorici il problema lei ha bisogno di un ponte di comando solido nel quale eventualmente andare a formare o a pescare cento mille bottai e rimettere in moto la macchina dello Stato per fare questo lei ha bisogno di una riforma premierato cancellerato quale che sia lasciamo stare il semipresidenzialismo perché non ce la farà mai a sloggiare Mazzarella ma una riforma che le dia continuità istituzionale e che ne consente naturalmente per fare questa riforma ha bisogno dell'appoggio almeno di Salvini e di Forzità e qui ritorniamo al punto di prima però non illudiamoci che con il partito conservatore si risolva tutto questo ripeto a parte quello che è successo a Berlusconi i nuovi partiti non si formano più non può durare bene pochino inutile ti ricordo qual è la domanda sulla costituzione e niente partirei da lì perché mi pare quella più stringente cioè qual è la vostra valutazione sulla costituzione no? questa era perché la citate poco perché la è la più stringente con cui concluderei il mio brevissimo intervento ma prima diciamo voglio chiamare un po' maffettone quando dice il 90% della produzione è stata di gente che sono in un'area di centro-sinist non comincio da Giovanni Rabboni e del suo meraviglioso di Bello i grandi scrittori sono tutti di destra in cui contesta questa tesi in maniera profonda e molto più colta di me ma professor Maffettone il 95% degli intellettuali durante il fascismo erano fascisti il napolitano era fascista Nel Vegliotti era fascista Umberto Eco era fascista appunto erano tutti quanti fascisti che scrivano delle lettere bellissime a Mussolini di grande apologia nei confronti di Mussolini in Italia è esistito un circuito giornalistico ed editoriale che ha fatto sì che chi volesse scrivere pubblicare e rappresentare libri in televisione dovesse essere più o meno di quell'area poi in casa invece era un borghese di destra quindi intanto io non sarei sicuro che quelli lì non votino la Meloni buona parte di quel 90% che cita e poi esatto quindi secondo me stanno più nell'elettorato ne troverà gran parte se non almeno la metà nell'elettorato di centrodestra e poi c'è stata tanta produzione di destra che è stata di destra sempre destra in senso molto lato e lo accenna anche Paolo Macri nel suo libro che è rimasta un pochino confinata editorialmente giornalisticamente non ha avuto le recensioni non ha avuto i premi letterari un giorno se facciamo un convegno sui premi letterari ci divertiamo su come funzionano i premi letterari e quindi c'è stato un circuito una vera e propria fabbrica degli intellettuali che è stata gestita culturalmente e politicamente dalla sinistra e per cui oggi è facile fare questa affermazione ma andiamo a vedere quali sono le ragioni la domanda molto interessante guardi io amo molto la Costituzione molto non la trovo così di sinistra così come viene definita anzi nella Costituzione ci sono le parole d'ordine della destra c'è la parola nazione c'è la parola patria c'è la parola onore c'è la parola merito ci sono queste quattro parole che sono parole d'ordine anzi quando ci si contesta a destra dice ma voi non parlate di paese parlate di nazione riguarda che quando cambierete l'articolo 1 della Costituzione scriverete l'Italia è appunto la sovranità nazionale la sovranità del paese no 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 è una repubblica però nel primo articolo poi nel secondo capoverso appunto cita la parola nazione c'è la parola padre c'è la parola onore c'è la parola merito quindi ci sono parole d'ordine c'è pure una parola terza razza che ancora sta lì che ancora sta lì diciamo quella parola tra l'altro non fu nemmeno tanto sì sì ma usa il termine oggi sarebbe reato dieci anni di carcere se uno di noi scrive la parola razza su un articolo sono dieci anni e il processo non te lo fanno come dice De Luca vai direttamente in carcere quindi non è nemmeno tanto antifascista come pensate perché fu così blanda con i vertici fascisti che non so Pavolini se fosse si poteva candidare cinque anni dopo l'elezione Starace si poteva candidare cinque anni dopo l'elezione quindi diciamo fu anche blandamente antifascista perché fu scritto in un contesto ma qui ricorda che diciamo l'ingresso in Parlamento della destra viene pochissimi anni dopo due anni dopo Piazzale Oreto ma comunque il vero il vero il vero tema il vero tema sa sa perché la costituzione sa perché la costituzione è piaciuta alla destra perché è entrata in Parlamento nel 1948 cioè la costituzionizzazione della destra la fa alminante con l'ingresso in Parlamento altrimenti uno avrebbe fatto la politica extraparlamentare o la politica addirittura non solo extraparlamentare ma anche violenta come poi in acqua a sinistra con le brigate rosse cioè non c'è stato antiparlamentarismo cioè qual è il punto fermo della costituzione dal punto di vista dell'impianto della nostra democrazia la repubblica parlamentare e quindi la prima scelta che è stata fatta della destra dopo il fascismo è stata quella della parlamentarizzazione quindi il riconoscimento totale rispetto delle regole delle regole del gioco poi se lei mi dice ti piace la seconda parte della costituzione ma secondo me va cambiata tutta non è che va cambiata perché è sbagliata perché un abito dopo 70 anni non va più bene dopo 80 anni non va più bene cioè voglio dire va dal sarto magari simile a quello che c'era prima però capisco che non è possibile farlo in Italia sia per come scritto la costituzione sia per la situazione sia per la situazione politica quindi io non credo che ci sia una una discrasia tra destra e costituzione non c'è affatto c'è stato no c'è stato no sa perché sa perché non ne parlano mai sa perché a destra se ne parla poco sa perché se ne parla poco a destra perché la sinistra ne ha fatto una sua arma di confronto politico e di scontro politico se ne è appropriata e quindi quando tu ti approprii di una cosa è inevitabile che l'altro prova a non parlare è lo stesso motivo per cui la sinistra non usa il termine nazione voglio dire che c'è c'è patria che c'è di parola più bella la terra dei padri io sono orgoglioso di stare oggi nella città di mio padre il ciampi non è di sinistra non mi è mai risultato iscritto al partito comunista ciampi era un tecnocrate azionista ma voglio dire adesso un tecnocrate azionista ma adesso non è che non è che era un politico di sinistra ciampi ha fatto un grandissimo lavoro per riportare il termine patria in azione nonostante lo istruzionismo che ci fosse anche non vorrei lanciare una molotov ma diciamo non è che la sinistra poi difenda sempre la Costituzione perché in Costituzione c'è il regionalismo differenziato che la sinistra considera incostituzionale l'ha messo la sinistra cioè voglio dire la sinistra la sinistra è così la sinistra è così lucida la sinistra è così lucida è così lucida da aver introdotto con Bassanini l'autonomia differenziata in Costituzione e da contestarla oggi accusando la destra quindi siamo non so c'è un professore di psichiatria no non c'è non abbiamo soluzione chiudiamo ancora con quella obiezione che faceva Calizio cioè è vero che non vi interessa poi in realtà la Costituzione del Partito Conservatorio no non è vero lui dice una cosa importante attenzione quella è un'etichetta è facilissima è più difficile declinarlo eccetera però un pilastro fondante del Partito Conservatore l'ha detto Calise che può partecipare alla scrittura del programma oggi lui ha detto qual è il primo pilastro il primo pilastro è consentire alle prossime elezioni di entrare in cabina elettorale aprire e trovare il nome Giorgia Meloni scrivere sopra Giorgia Meloni mettere la X sopra Giorgia Meloni e la sera sentire Bruno Vespa che dice si sono chiuse le urne è stato eletto Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa questa è la ma vedi in Inghilterra questa è la in Inghilterra però non c'è questo sistema tre anni e metto quindi la vera rivoluzione tra l'altro la Meloni secondo me farà una riforma molto soft perché il punto è l'inversione di tendenza non c'è bisogno di smantellare come dice la sinistra la Presidenza della Repubblica fare questo e fare quell'altro basta scrivere che gli italiani eleggono il Presidente del Consiglio che c'è scritto il nome sulla scheda con le liste collegate ma scusate dico io alla sinistra piace tanto l'elezione diretta del Sindaco piace tanto l'elezione diretta della Regione due leggi fatte tutte e due da maggioranza di centrosinistra in Parlamento due leggi fatte 93 e 95 da maggioranza di centrosinistra e quando uno vuole fare la stessa identica legge ma in più tenendo la garanzia del Presidente della Repubblica è un eversore anche qui manca purtroppo e quindi non siamo in condizione di darci le spiegazioni giuste piacerà piacerà guardi io lo dico per esperienza per colloqui diretti Salvini ha imparato una cosa la prima questione è che come potete insegnare voi scienziati della politica e Macri la rottura all'interno della coalizione quando tu hai alle spalle chi governa un puletro che è più giovane e che è scalpitante perché vuole prendere il tuo posto Salvini oltre a non essere più giovane ci ha già provato prima della Meloni a prendere il posto e come era lo spritz di troppo ha evitato ha impedito che prendesse quel posto quindi non è più il puletro che vuole scavalcare quello che c'è davanti perché lui ci ha provato prima e non ci è riuscito poi è retto gli è andata male finestra temporale sbagliata seconda ragione Salvini lo dico anche ne abbiamo anche parlato personalmente è consapevole che il centrodestra in Italia ha perso solo per ragioni endogene mai per ragioni esogene dalla seconda repubblica ad oggi perché il 94 vince nel 96 perde le elezioni perché non vuole portare all'interno dei collegi maggioritari la lista di Rauti Movimento Idea Sociale che fa perdere 52 collegi maggioritari e fa nascere il governo Prodi nel 2001 vince nel 2006 perde nel 96 tra l'altro pure la Lega se n'era andata da sola nel 2006 perde dopo la rottura di Pollini segretario dell'Udc vince nel 2008 perde nel 2013 perde nel 2013 perché c'è la rottura Cofini no perché c'è la rottura con Fili posso dire una cosa professor Carisi voi siete più scienziati di me però se lei aggiunge lo 0,47% di Fili i voti di Fili perché perse si ricordi con il pareggio sostanzialmente ci sono stati poi due pareggi e poi ha rivinto le elezioni quindi Salvini sa benissimo che solo stando uniti si governa a lungo dividendosi sicuramente non si governa più quindi io questa preoccupazione secondo me preoccupazioni endogene non ce ne sono più perché anche Forza Italia non è che a uno di Forza Italia a uno che vuole governare al posto della Meloni devono stare tutti attaccati alla Meloni che oggi è il pivot di questa situazione e quindi sia Salvini sia Forza Italia voteranno tra l'altro il ministro di Forza Italia che fa la riforma voteranno la riforma e questo sarà il vero cambiamento poi alla fine alla fine dei 5 anni avremo avuto la riforma fiscale la riforma dell'elezione del presidente del Consiglio e tante altre riforme 5-6 riforme importanti gli italiani capiranno allora io direi di ora rispettare la liturgia e lasciare a Macri il saluto il ringraziamento per tutto quello che c'è stato possono essere anche due parole ma è bene che sia due parole no volevo dire una cosa al maestro Carisse che aveva posto dei problemi no voglio dire io non sono così convinto ovviamente c'è un problema relativo alla leadership c'è un problema relativo alle modalità della comunicazione politica oggi rispetto anche soltanto a dieci anni fa però ribadisco appunto anche sulla base delle indicazioni Pagnoncelli la terza che grosso modo c'è un campo abbastanza 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 chiuso rispetto al quale torno a dire probabilmente io non penso che Giorgio Meloni riesca a fare tutte le riforme che adesso come dire promette promette insomma che citava Italo Bocchino un e dopo domani vabbè vediamo dal dal presidenzialismo alla alla in scala no 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 insomma appunto bisogna vedere poi bisogna vedere i contenuti della riforma la riforma la giustizia la riforma il tema del del titolo quinto del del regionalismo è un altro un altro grosso tema e quello ovviamente del presidenzialismo sono tutte appunto cose molto complicate questo è un paese che ha bloccato le riforme costituzionali erano fatte bene erano fatte male ma ha sempre detto di no insomma è passato insomma il titolo quinto dico di straforo ma insomma perché sembra un po' offensivo ma insomma è più o meno è stato confermato da un referendum popolare è passato in un modo in un momento molto particolare penso appunto che in qualche modo non so se lo chiamiamo partito conservatore o in altro modo insomma che in qualche modo il problema fondamentale della destra oggi è da questo punto di vista anche anche Galli della Loggia non aveva tutti i torti e come dire inverare dare concretezza diciamo a questa cosa che in Italia gira insomma filo rosso filo nero quello che sia da 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 80 anni insomma no è accettata non accettata delegittimata legittimata temuta eccetera eccetera ma che cos'è insomma no come dire le politiche che ha fatto fino adesso il centro-destra sono state sempre politiche probabilmente per motivi inerenti alla disomogeneità di alcuni pezzi dell'alleanza ma sono state sempre delle politiche molto difficoltose insomma io chiudo in questo libro poi alla fine dei conti ho voluto spezzare una lancia a favore di un elettorato di un'opinione pubblica insomma che a me sembra nel corso degli anni dalla prima alla seconda repubblica ma anche adesso spesso viene come dire demonizzata talvolta addirittura disprezzata come marginale come incolta eccetera eccetera che però inelegante inelegante l'aggettivo è inelegante è che però diciamo questa opinione pubblica dico alla fine segue il ciclo della politica insomma picchia in testa la politica picchia in testa la politica non perché abbia istinti viscerali distruttivi ma perché la politica il ciclo della politica in Italia ha dato diciamo dal fallimento del primo centrosinistra a seguire e forse non ci sono neanche soluzioni di continuità è sempre così è un ciclo che ha pieno di puchi ma lo so che adesso detto così non è da storico che dovrebbe invece vedere i periodi i momenti le analisi e spaccare il capello in quattro e va spaccato il capello in quattro però voglio dire c'è questo fine pubblica che a un certo punto poi è ovvio che ci sono le modalità a cui fa riferimento Mauro Carisi è come ovvio insomma no 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 questo non sono così ingenuo da negarlo però dico sostanzialmente c'è un'opinione pubblica a cui oggi Giorgia Meloni deve dire delle cose e come dire in qualche modo non se la può cavare insomma con pura fuffa perché non è mai successo perché perfino una come dire una macchina iperrodata come quella della prima repubblica certo dopo il crollo del muro certo dopo mani pulite tutto quello che volete ma è venuta giù con un castello di carte dall'oggi al domani perché evidentemente agli italiani insomma la cosa non piaceva più insomma la la Meloni deve deve in qualche modo avere un rapporto con gli italiani bene grazie a Macri per questo libro alla terza per l'avere pubblicato a voi per aver ascoltato e a tutti gli intervenuti grazie grazie a tutti grazie a tutti